ok here we are rock you like a hurricane allora io ieri se vi ricordate avevo detto no non ho cambiato camera però oggi si vede particolarmente bene non so perché credo perché ho la finestra aperta che entra un botto di luce viva la luce ragazzi viva la luce ho detto a edo ieri se vi ricordate edo mi raccomando non giocare troppo perché se giochi troppo ma è jtaz questo sì se giochi troppo è una merda capo scusami per il disturbo è ma sono qui a ricordarti a parte un like e un commento che fanno veramente tanto piacere a iscriverti al canale una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte quindi dato che soppongo non vogliate perdervi nulla iscrivetevi che fa veramente tanto piacere non vi perdete alcun tipo di video buona visione oggi vado a vedere edo tipo a livello 5.800 74 miliardi di bestie tutto quello che che gli fai vabbè detto ciò però detto ciò però sembra cosa cazzo è questo questo è per le uova sta schiudendo il mio uovo alla fine ridendo e scherzando domanda da un miliardo però io devo andare in chiamata con loro perché io immagino che per dormire dobbiamo metterci d'accordo vero se non ci mettiamo d'accordo fanno a cacare quindi devo adesso mi scriveranno cos'è sto pal catres ma al 23 surfent irrigazione ma che cazzo ha fatto edo porca puttana in 10 ore ha creato un gioco ma sta facendo mille sfere ma porca puttana ma impazzito ma non ha più controllo su se stesso ma sta creando un intero pianeta io c'ho fame ma vaffanculo dato fuori testa con l'uomo è non si controlla non si sa controllare vabbè se 4000 di legna cosa ma cosa ha fatto in cinque ore ma che ma porca madonna porco dio ma serio boh vabbè vabbè allora senti non lo so ragazzi cosa abbia fatto ho finito le frecce addirittura io perfetto però il pinguino capo bastone più forte della storia senti un attimo a parte che sta diventando violentemente notte violentemente notte violentemente notte io vorrei chiedervi una cosa a voi che è sta roba è stato di lucario vabbè vi volevo chiedere violentemente una cosa ragazzi boh cassi strumenti ovunque vabbè orvero come faccio a sbloccare gli le tecnologie dei personaggi cioè dei dei pal cioè come faccio ad affare in modo che il mio pal no mi vada a utilizzare le mosse che dovrebbe avere tipo lui c'ha no come si chiama missile no come si chiama lo slot quello che lo chiamo io bisogna livellare il pal o lui serve lanciaranzi di pangulate puoi realizzare il banco di lavoro per gli strumenti dei pal quindi a me serve il banco di lavoro dei strumenti dei pal mi sa che questo cavolo e dormire porco chi è? ok aspetta che almeno non mi romperò il cazzo li vedo che dormono ma mi sono svegliato? ma ah si ok a me serve il banco di lavoro degli strumenti dei pal no? strumenti dei cazzi mi servirebbe anche una fottuta torcia e anche un po' di frecce al masseo di centra su team speak arrivo arrivo fammi una un centinaio di frecciole dai arrivo su TS guardate Paolo come dorme contento come una pasqua Kisu grazie per i 16 more grazie Kisu bentornato capitano ne fate 300 poli eh vuol dire che serviranno dite Edo di trasportarmi in stanza in stanza persone dalla dubbia dalla dubbio intelletto ah sono nella cassa ma 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 quanto cazzo ha giocato? qua non ci sono qua non ci sono ah qua c'è la cosa dei pal ah ma voi mi state dicendo ma cos'è mazza? eccole qua rubare 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 ora strumenti pal banca di lavoro strumenti pal la bardatura di fox parks questo serve per per fare il lanciafiamme no? o mi sbaglio i guantoni per usarlo come aliante quindi volendo provare a usare a imbracciare un lanciafiamme no? ditegli a Edo che mi trascini comunque porco dio ma quanto ci metti a farla la bardatura? cazzate come gli mostri sono su D sono su TS se mi spostano aspetta non è che magari sono mutato e non me ne rendo conto no mi devono trasportare quei bastardi ma me l'ha inculato ma che home è me? ma mi ha inculato la briglia sciolta oddio sono su TS mi deve spostare ragazzi non c'ho i permessi che io non sono un melagodwer oh poli 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 è stato un preintendimento qua che hanno rubato la cosa poli non si può mollare non si può poli non so quante risorse hai visto quante risorse ho visto ma te sei malato di testa ma no ma perché il server resta attivo e loro continuano a scontare il server resta dormiamo andiamo a dormire andiamo a dormire non vedo un cazzo non vedo neanche poli aspetta ho rubato il letto edo abbi pazienza vabbè è uguale ha detto poli che lui è su di te ma che mic hai poli? che mic? si sembra che stai tipo in Antartide sembra che tu sia in Antartide mi fa piacere si stai usando un microfono che non è quello giusto te lo dico fammi fixare cosa mi sta pescando progetto se io faccio così mi sentire meglio? si a voglia questo è quello giusto questo è quello giusto si è andato esploso tutto quanto spiegate che cazzo ascoltate ma perché mi avete fottuto il briglia per fare il lanciafiamme? è stata una cosa accidentale è stata una cosa accidentale non sapevo che non si potesse ridare ah no delle armi aspetta vediamo un po' sapevo che fossi tu va bene no 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 tu lo sapevo aspetta ragazzi posso fare veramente la pistola? lo sto provando io ho capito ma lo volevo provare io metallo porco dio beh chi è che sta rubando il metallo? io no pezzi di merda io no io non sto rubando metallo io lo sono andato via dammi dammi il briglia sciolta dai porco dio guardalo che carino oh dammi il briglia sì qualcuno ha preso il metallo ma dove cazzo è andata la briglia? eh no ce l'ho io la briglia ma ne ho appena fatto un'altra mi hanno inculato anche questa ah no no questa no non ci sto io sto catturando ma scusa ma porca puttana ma non posso fare niente la briglia ce l'hai porco dio polli 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 no ma porco dio sei un cretino no non ne ho mai due inventario oggetti importanti ne ho una visto? e come si equipaggia? è in automatico tu prendi il pokemon la volpina di fuoco la lancia a terra come non fare colpi per quella? e poi te ne è premuto non so perché non puoi fare colpi per quella spagno? però c'è l'abilità del compagno ok ragazzi dovete smetterla di produrre un pokeball all'infinito che state facendo sprecare porco dio il metallo io lo to capito polli polli non ho fatto niente io sono rappenetrato ma che cazzo volete? ma non è vero ma stai dicendo una cazzo ma sei un falso sei un falso ci sta ci sta sei un falso sei palesemente te ne sei guarda oh vieni qua guarda era dentro a fare le pokeball dio boia bro vieni qua vieni qua ma ti rendi conto che ho imbracciato una volpe lanciafiamme si 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 è bellissimo si provo a sparare provato a sparare e ti ho detto e come si ricarica non si può bruciare la roba è a tempo è a tempo è a tempo adesso provo ad andare a dare fuoco a un palla ma cosa hai costruito qui sulla riva del fiume eh no quello sono io è un altro villaggio un villaggio ma perché un altro villaggio vicino a un villaggio eh no perché cos'è che ho preso ragazzi perché io sono arrivato stamattina troppo presto e non ero dentro la gilda e non puoi incontrarci quindi in attesa ho creato un altro villaggio per fare il tutorial eh quando cazzo ti sbagli giustamente no perché qua manca 9A ah ma non posso farlo sui pokemon di tipo fuoco eh ti sto dando un attimo fuoco al villaggio Titti ma è per testare ma è per testare non ha preso fuoco tranquillo per testare ok allora no non ha preso fuoco comunque alla fine sono felice del fallimento di questo testa allora e c'è un errore e ho preso devo aver cagato dal puzzo ma è finito il gioco ma non è finito il gioco è finito il gioco è completamente finito il gioco ma che stai dicendo è finito il gioco sì ma hai già ucciso il boss finale come si chiama Rampardos il boss finale una volta sì 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 è tutta la matrix tutti quanti assieme chiedigli quanti leggendari ha in che senso i leggendari zero leggendari zero non ne ho ah ok non leggendari leggendari due scemmiette bisogna di due scemmiette cos'è che c'è no no aspetta no 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 io vado a fare un giro per il mondo se non vi dispiace a prendere un po' non ho tanto da fare perché ho fatto un po' di cazzi saluti spostamento rapido vado a vedere un po' com'è questa terra desolata andiamo qua dai vai vai hai trovato il lupo shiny? ho trovato un lupo shiny sì però non sono veramente shiny sono tipo non ho rubato il metallo porco dio sono grandi sì sì io ne ho trovati un po' però niente mi accusano di rubare il metallo perché dovrei rubare il metallo poi è un'accusa pesante eh 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 senti quell'altro eh no vabbè ma posso comunque andare a rubarli colpi di pistola li posso andare a rubare ai tipi delle si si è a voglia ai criminali oh sempre a dieta porco dio penking sempre a dieta si mette subito dai sempre a dieta si pure io c'è un pokemonino sempre a dieta se vuoi dire sempre a dieta guarda che bello ti fa avere meno fame bastardo con la scimmietta dove lo porto dietro come faccio ad andare di là grazie spagno grazie per ciò andate a farvi un paio di dungeon così fate il metallo adoro il metallo palladium domanda ma no serve metallo ragazzi da parte gli scherzi serve il metallo veramente minerale di metallo si si potrei provare a rubarlo se avete allora se avete i amazon prime avete dei facoceri no mai trovato mai visto allora porco dio prendeteli dal box venite qua io sono un po' dall'altra parte del pianeta abbi pazienza un attimino mannaggia il cazzo ma porca puttana non si aggrampica sto coglione ma infatti è questo il mio facocero ma scusa è questo il mio facocero è velocità divina con un giusto ci mancherebbe altro ok scala 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 muro scala muro scala muro ma va che bravo come si arrampica eh il mio personaggino molto abile abile nelle arrampicate grazie grazie loco per gli otto grazie more perché non arrivano in palmon perché non c'ho voglia onestamente oddio chi è questo ho trovato eccolo qua un cinghiale bravo servono per farmare i metalli molto più velocemente questo è spento mannaggia il cazzo ragazzi mi prendo un cinghiale che fa comodo ehi come cazzo non entri bastardo è morto piccolo errore cos'è quella roba là oddio un uovetto raro mi sa dietro la chiesa abbandonata ha sempre lì dite di andare eh sì ho trovato un uovo non comune non comune non comune a te cosa serve edo metallo di che tipo metallo normale metallo datemi il metallo minerale metallo bravo minerale metallo sto prendendo fai la farm di metallo ci passi ogni tot per mettere a fare i lingotti ma risparmi un botto di tempo sto facendo a mano è l'unico modo non so che cosa voglia dire ragazzi cioè nel senso l'unica cosa che so è questa vai qui dietro fai r2 e lo farmi è stato sottato da un signore sto accovacciato codo mi permetto tecnologia cosa si sblocca qua che sono i chiodi cosa te ne fai dei chiodi chiodi per costruire costruisci roba e ti servono fidati i chiodini ok tutti i bambini con i chiodini oddio che è successo è morto sono morto perché che avete sentito un urlo era il mio era piuttosto esplicativo cosa fosse anche ma guarda che bello ci sono le foreste rosse qua c'è una chiesa abbandonata quello che allora sto raccogliendo metallo eh tanto si si la chiesa abbandonata dove cazzo sei poli qua sei eh ho fatto un teleport in giro per il mondo no teleport ok vale hanno ragione ma se fai un box qui e lasci cibo ai facoceri che intanto farmano il metallo tu 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 ah ci metto meno io a fare sta roba veramente ci metto meno io ma dove è arrivata lei ma tipo dimmi una quantità di metallo che potrebbe essere considerabile tantissimo tantissimo tipo quello che fa è la cosa che ci manca zio cane mille no mille è un po' tanto ne ho una cinquantina io mille è un po' troppo infatti tocca tocca farmare in base ne abbiamo 76 conta non è tanto eh io ne ho una quarantina in bag ho trovato un mineralone sto picconando come un bastardo prenditi un facoccio allora ce l'ho e in tre colpi hai finito così non devi minare capite ma non ce l'ho in squadra dovrei tipparmi indietro prendere facoccero ci metti di meno ma c'ho voglia troppo lungo ho una domanda ma hai presente ma sai che tu hai fatto la grande cassa di attrezzi no quella che ha velocize ma se io ne metto un'altra no non funziona non è cumulativo c'ho scritto no cumulativo guardala un altro cinghialone eh no se no ne metto otto e diventano tipo il bob la giusta tutto magari tu 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 oddio la cosa c'è che mi segna un elemento di interesse bella andrew grazie per i 50 costruisci una base 50 euro alla chiesa 2 non attaccarmi cinghiale di merda e pal di trasporto 3 metti una fornace delle case e il gioco è fatto e il gioco è fatto senza la 100 eh sì devi mettere tutti i letti eh sì due coglioni non c'ho oh ma qua abbiamo un king paka preferisco far così abbiamo un king paka cos'è king paka un king paka quello me lo segna come boss tipo poi al king paka ti dà 100 spazi no porco dio 100 è un po' 200 ho 200 spazi ma di inventari ox di inventari ox di peso wow beh sì perché in futuro ti servirà e in futuro me la faccio quando qualcuno contribuirà a dare una mano a costruire sto mondo di merda sto eh beh sì se giochi 30 ore al giorno non è ho giocato 30 ore al giorno hanno farmato tutti quelli che avevo mezzo ieri zera staccato a luna però no è vero è vero io sono arrivato questa mattina e era pieno i i tizi incontrollabili tizi incontrollabili no cioè era assurdo era tutto era tutto a 9999 e non savano più che faccia oddio ma è un re degli alpaca questo c'ha proprio la coroncina è la corona è King Paka King Paka carino oh King Paka mi sta spaccando il culo oddio mi vuole colpire King Paka perché ho ucciso un piccolo alpaca di fronte a lui e lui si è molto offeso sarà suo figlio no è probabile era molto più piccolo di lui effettivamente darmi una mano mi sono salvato erano le tre no non è vero era la balestra erano le tre l'arco le tre chi è che sta sparando ragazzi non io ok non io la balestra è mai un'altra porr'arco dio ma che il bombe lancia King Paka fa più danno ma ci mette di più a caricare oh arco best arma arco sempre in tutti i videogiochi best arma no non penso proprio non penso proprio il moschetto toglie 5000 in testa ma che cazzo dici 5000 che se fai colpo figlio alle bestie allora dirante è diventato ah di qua erano le tre balestra kiss ma io chiudo le porte ragazzi ve lo dico guarda la lican rock prendi palle colpisci lican rock normale io vorrei farmi la balestra ditt ditt ho fatto vieni qua nella cassa oddio prenditela ce n'è una già fatta ah scusami molto bello il sistema di caccia ah non lo sapevo dove sei è pure i verdi guarda che bella che è eh l'ho vista l'ho subito succiata eh boom oddio devi stare attento perché non so come si aggiusta come non sai come si aggiusta no e forse ti devo dare il progetto ma non cattura 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 lican rock grazie zoli per i tredici grazie zoli ma si aggiusta il banco di riparazioni ma è bagatissimo questo lupo di merda ma a me si mi serve semplicemente un chiodo dov'è ci sono i chiodi eh no sono finiti a quanto pare sono tre livello undici eh no servono un attimo di più mi sa che servono quattro proprio dove è andato il merda ok l'ho preso oh dei zaffiri oddio ma guarda che strano che sono morto sti zaffiri sai cosa mi vengono di mente che io mi vado a vedere quanta pietra ha fatto il mio gatto silvestro guarda che il gatto silvestro non dorme te l'ho detto ma quindi fa differenza mirare alla testa o mirare al corpo si wow buono sapere si c'è il colpo criticos ecco prendiamo questo proviamo un attimino a dare fuoco ai ragazzi eh un po' di cosciotti porca madomma è fortissimo lanciafiamme ma le frecce ci servono anche per la balestra si là c'è una statua le frecce si 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 grazie donatore ci sono 300 frecce in lavorazione chissà chi cazzo le ha messe non io assolutamente non io dai tante pietra finché non toccate il metallo son contento datemi il metallo toccate il cazzo di metallo no parco dio spaccandomi il culo pezzi di merda veramente guarda che blocco le casse Metti password a cassa Edifica fabbrica per la produzione In serie di sfere Edifica generatore elettrico Porca puttana Ma la volpe tira di quelle sberle atomiche La volpe con lancia fiamme è potentissima Ma anche lei da sola Tira delle crocche da 900 A cazzo così Vallo 17 Andiamo subito a fare questo Sì lo so ragazzi La grafica La fluidità di gioco I cazzi che prendi nel culo Siamo allineati vedo Tra un po' mettono anche il Come si chiama Il cross platform Tra una ventina di anni mi sembra No 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 ci sta lavorando Insieme ad Epic Games ci stanno lavorando Ah vedi mi pare che va Per Fortnite Esatto Porca ma sciotta sta volpe di me E' da sciotta E' tipo Guarda quante wyvern Di merda Che ci sono Dov'è la mia volpena Un vestitino Ci sono dentro le casse No non Un vestitone Prova a vedere Ci dovrebbe essere anche quello Nelle casse No no ce n'è uno semplice Ma una bella arma melee Chi sa la lancia vuoi fare La lancia La lancia buona Adesso torno a casa Con Marlena Ma infatti Eh la pistola sarebbe La sussussucchiare Ehi bimmi che sei super dai Sì super uova elettrizzante Potrebbe essercene uno goloso dentro Attenzione Sono in giro per il mondo Esplorare e raccogliere metallo Ma raccoglieri al 21 Mmm Che livello sei Edo? 24 Madonna puttana Bruciali Bruciali questi umani di merda Oh una bomba No Che è che ha le bombe? Le bombe? Le bombe Guarda che figo qua Ci sono dei cavalieri Palkia Coglione Palkia Eh sì È un pokemon Sì Ah È proprio un pokemon Palkia Ma che bello È 100% Palkia Ah quelli su Sul ponte Vero? Sì Ma che mira di merda hai Forza Roma Su il ponte Vero Poli? Sì 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 Eh sì sì Bellissimo È vero Ci ho pensato pure Per me so È Palkia quello Palkia Lo posso mettere come Grazie Tonno Grazie Carmine Grazie Steppo Grazie Sawa Grazie Rufi Questo figlio di troia Grazie Gesù Allora liberiamo il Dizzy Eh Avete mai ruolo Di mettere un essere umano Nella vostra squadra? Sì ma Lo puoi vendere no? Sì sì Ma io l'ho messo in squadra Lo uso come pokemon Mi ha Shottato Eh beh Penso di sì Poi c'ha la fucile in mano Non si vede il corpo eh Però Eh ma infatti è buggato Ma un pal di merda Mi ha shottato No ragazzi Devo tornare indietro Porca puttana Devo tornare indietro Perché mi è morto Il deficiente Ma dai Ma dai Quanto ha di vita Porca troia Scoppio Scoppio eh Lo so Madonna era il 16 Ma mi shotta il 16 Adesso vengo a prenderlo eh 1700 Com'è che con 900 è morto? Non ho capito Sa che puoi catturare E vende degli umani Sì il problema degli umani È che hanno una probabilità Bassissima di entrare Quindi non Non conviene Cioè spreco un botto di roba Ascolta un po' Ma Dica Mamma 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 Non mi ricordo Che cazzo Ci sono Ah sì Quanto rimane il mio loot Per terra se muoio? Sempre Rimane Rimane sempre Ok Si è tornato alla base Ma Sam? Non ancora Ok Volevo farti fare la La borsetta Ha tutto Hai rotto il cazzo Oh c'è il cuoio Allora mi servono delle sfere Perché L'hai cadato tu? È tutti i pokemon Che ho catturato cazzo Molto bene Sto ripendo tutti i box I miei Mi lo deve dare il contributo Se no vinculo a steca Bro ma Devastante il banco Per le armi Di merda Assurdo Mi serve la cazzo di Di merda Cos'è che ti serve La cazzo di merda? Mi serve la tecnologia Per fare le armi Aspetta che prendo Questo pokemon Che non l'ho ancora Quatturato Devi fare tipo i Cosi Sì di serie di livello Sì Non essere arrabbiato Scusa Perché se vieni troppo vicino Poi ti shotto Perfetto Hai visto? Allora piglia questo Tecnologia Sblocca tecnologia Cosa prendo? Che danni li fa eh? Piccone di metallo Asce di metallo Arco triplo Arco triplo? Porca troia Ma glielo ho tirato nel culo Dove prendermi la guardatura Considera una freccia consumata Ma ne lancia tre al nemico Ah lui ne considera una Ma è bastante assurdamente Porre potenza C'è scritto C'è scritto Ok Scritto me io non so leggere C'è scritto utile Hola Cazzo ridi? Cosa è una base E lo vende L'umano Guarda quanti proiettili Ci hai qua dentro Teo Sono proiettili a cazzo Oh Gorghino Sminestrino Olli Ciao Mattia Cos'è che fa questo? Padrone Re semina Ah apposta Però mangia come un titano Un titano Un titano Ma questo Cosa stai facendo? Porco dio Mi spiegate Il Pasquale in corso Sì ma ha fatto Padrone Sto figlio di Troia Edifica Fabbrica Della produzione E generatore Elettrico Come cazzo si fa? Eh Sborrando Vecchio Che cazzo stai facendo Titt2 Sto tirando la tua attenzione Per farmi fare una borsetta Ti ho fatto una lap dance Tirando la tua attenzione Sì sì Spostamento rapido Vado a riprendermi I miei cadaveri Vieni qua a ballare No Vado a fare cose in giro Per il mondo Vieni qua a break dance No ma io non posso fare Break dance Non so se mi hai visto Cioè se mi guardi Fare break dance È un problema Dammi la mano almeno Titt2 Che sennò ti sparo addosso Dai Non prendo lupo Non c'ho neanche la stella Il ferro lo sto farmando Ragazzi Pian piano Ma la lancia La posso lanciare? Ti devi spostare Ok Prendila Ora l'ho presa L'ho presa Prendila 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 Titt2 Porco dio Prendila Ma è fatta pure quella grossa Sì ti ho fatto pure quella grossa Sei contento? Non l'avevo mai scoperta quella grossa Sei contento? Quella grossa Sei finita Titt2 Quando è che mi ciucci il cazzo adesso? Dai Va bene Iniziamo Titt2 devi leccarmi le palle dai Va bene Allora ci sono uova dentro? No Metterò il mio super uovo elettrizzante Allora Un po' freddo Cazzo Ti senti pesante Mettiamo questo Ah vieni qua Fai la pistola e spara Titt2 Zio Pera Mi sembra del dirasco Fai la pistola e spara Titt2 Zio Pera Olio di pal di alta qualità Devo ammazzare tipo i mamut E comporinti della civiltà antica Perché ce ne sono due Io non ho preso Perché ti ho fatto la borsetta Porco Dio T'ho fatto Ah può essere No aspetta La borsetta non le richiede Ma questo è jellycent Ma a broma Ragazzi Che ha rubato i componenti Della madonna Troia Io vi ammazzo Porco Dio Nessuno Nessuno Io non ho preso il cazzo Non ho costruito niente Hai aggiustato la balestra Ah ho aggiustato la balestra Sì 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 Allora sì Allora tocca Io voglio fare questo Ok Voglio fare questo Zio puoi buildare il bastone teaser Fa schifo L'ho già provato Fa schifo il cazzo ragazzi È inutile Quello che stordisce tipo Sì è proprio inutile Sembrava strano catturare il 14 La medicina del figo l'ho messa E vabbè Ho capito Ho titti al 20 Eh minchia Eh ragazzi Tutti farmano Stai spaccando il culo Ah bro È stato appena arrivato Qual cazzo vuoi Ho staccato ieri Ho giocato il culo E gioca ogni giorno Ho fatto 17 ore al giorno Non fa le deli su snap Non fa le deli su snap Ma mi ha shottato di nuovo Sto figlio di puttana Ma è fortissimo Sto pokemon di merda Dall'alto Adesso vengo a riprendermi Tutta la mia roba Bastardo Tutto quello che è tuo Lo sapevo che moriva Porco dio Lo sapevo che moriva Porco dio Sono morto ragazzi Porco dio 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 Perché non riesco a camminare Porco dio A portare dietro due volpine Non si sa per quale motivo Allora Prendo la roba E torno qua Ho già capito io Prendo tutto E torno a casa Via Anche perché Arriva La notte E nella notte Ho pensato dopo Che è un pokemon Tipo acqua Io stavo sopra un pokemon Tipo fuoco Ma ho preso una bolla E sono esploso Ah ma c'è Super efficace Per due colpo critico Sì Immagino proprio di sì Il colpo critico Sì che c'è Sì sì c'è Quindi Prendere il surf E farci la sella Sul Fante Scusate Io sono morto lì in mezzo Quindi la mia roba È lì in mezzo Hai lasciato giù 100 kg di metallo È un faro di luce in teoria No ragazzi È in mezzo al lago Sei un faro di luce Ah sì sì Rimane là Oh madonna Ma non posso riprendere tutto velocemente Devo veramente far tasto destro Così Ragazzi Ehi Fai la sella dai Fai sella surf Dai ragazzi Sella surf Tocca fare dai Arrivo Arrivo E ti do tutto il fuoco Ti do tutto il metallo Che ho raccolto in un'ora Di scautaggio Ah devo ancora sbloccarlo Ah c'è scritto prendi tutto Non l'ho visto ragazzi Eccolo qua Culo Piccola sella di surf E siamo a posto Si che puoi perché è un bel gioco Dai Si che puoi perché è un bel gioco Si che puoi Si che puoi Si che puoi Si che puoi Andiamo a casa Vengo a casa di Dio Perché sono poche notte Si che puoi Si che puoi Ciucciare cazzi Si che puoi Fare così come dico io Ciucciare cazzo Porco Dio Porco tanto Ciucciare cazzo Il problema è uno solo E non solo Signori E fa freddo adesso Oddio Serve un Pallapeo Cosa hai fatto TT2 Ho esploso mi sa Ho visto la modalità Gorilla tutta forza Della mia scimmia Che mi hai dato te Ah bella Porca droga Gorilla tutta forza E comincia a fare il terremoto Si si esatto Ma Sfonda tutti Perché è rotta questa Che vuol dire Ma quindi questo figlio di puttana Di surfent Non perde Surfent è qui Non perde Come si dice Non perde i cazzi Non perde la stamina in acqua E allora si che è comodo No Non dovevi attaccare Dov'è la mia torcia Allora Vi deposito un po' di Dove te lo metto il metallo Edo Nella cassa in fondo Vicino alle robe Vicino Vicino all'estrazione mineralia Ho sbagliato Cassa in fondo Vicino alle estrazioni mineralia Sì sì Accanto alla Cava di pietra Vicino alla canna del gas L'ho catturato subito Hai C'è un po' di pietra Non è questo Sì è vuota la cassa Può essere Ho sbagliato tre volte L'ho catturato subito Potrebbe C'è un cazzo dentro Tipo c'è un po' di pietra e basta Vabbè 50 di metallo Comodo Un po' di pietra Non lo so Leggi il numero Un po' di pietra Tipo 188 Ah Ficca di bolle Vabbè io l'ho messo lì Il metallo Mi sembra un Sì sì ma tanto non importa Poi in che cassa si trova Perché il gioco Se lo considera nel villaggio Si corre con shift ragazzi Con ogni gioco della storia Praticamente Io ti consiglio di usare il pad Il pad Ma dai Ma come fai a giocare col pad Porco dio 1000x Vecchio Bomber In combattimento soprattutto Ti aiuta un botto Sta zitto Bomber Sto vedendo Dove depositare Allora Sto preso un po' di proiettili È nuogo È nuogo Proiettili Ti metto giù i proiettili Ah ma non sono lo stesso Ci sono i proiettili mediocre E i proiettili Ah di vari livelli Ma guarda che schifo Ci sono risorse ovunque Dici di me C'è la merda in qualsiasi cosa Opa la la E opa la la Ti metto un po' di roba in giro Sistemata bene Che sono un casino di merda Ma non si possono colpire con le granate No? A quanto pare no Fai l'armamentario per tutti Edo già che ci sei Che sei a livello 4500 Crea un attimo un paio di Di K47 per il team Ma portano a pianta il culo Ma dai ce le hai le risorse Fai un attimo una qualcosa per la squadra Un lavoro di Si che li ha farmate porco dio Eh vabbè ma la condivisione è la base Del videojoking Ah la condivisione è la base adesso Dove te lo fico Dove Cazzato nero Dove metto ovetto? Posso? Ragazzi ma è normale che le bombe facciano così male Oh mia cara Dove far chiudere l'uovo? Io faccio arco triplo Sucate Non fare No non fare arco triplo Ti faccio qualcos'altro Piuttosto Fa schifo l'arco triplo Ma a me piace molto Stile Stile Libero Arco Dai titino Dai una mano veloce Dai piccola mano veloce qui Fottimi l'arco e ti giuro che Prendo il treno per Roma Ma ti pare? Appena l'hai fatto 10 uri fa No 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 Non sarei mai Ti giuro vado a prendere ad asciate tutto quello che è fuori dal villaggio Ma io ho fatto un livello? Sì ho fatto un cazzo di livello E io sai cosa ti potenzio? Ancora la velocità di crafting Che sono il più bello del mondo Allora Divento un artigiano Un artigiano della fica Allora Olè L'arco è uno spreco di metallo No no l'arco è legno e basta Se provate a sprecare il metallo io vi giuro Vi tolgo dalla gilda e vi sparo a vista Ve lo giuro eh Però questo te lo posso lasciare Tieni guarda Adesso ve lo puoi lasciare quando mi vedi che stanno diretto a distruggere tutto quello che c'è lì eh No Comunque per me servirebbe fare qualche Dai che inizia a fare freddo Eh infatti io faccio Tu ti sembra no? Dammi arco Inizia a fare freddino ragazzi Dovremmo dormire Dovremmo fare piccolo sonnellino Edo Sei dall'altra parte del mondo Sto facendo metallo quello che voi non fate Ma ti ho portato 5 unità Minchia oh porco dio Una cinquantina E che sono morto ne ho perso un po' in giro per il pianeta Porta pazienza Un po' in giro Eh porta pazienza È stato un danno collaterale di un zellicent che mi ha ucciso Zellicent Vabbè è zellice Dai che non stanno Stanno addormendo gli schiavi Non fanno un cazzo Allora io adesso mi faccio Te lo dico eh Tu stai prendendo fuoco in giro per la base Di cosa stai facendo? Relativa alle competenze semina Si mette subito Chi semina raccoglie Eh io mi sa faccio una pistola Tanto Io faccio una pistola Sì Qualcuno ha fame Una sbloccata Prendi scudo dai Bo E lo scudo ce l'abbiamo Necessito di stoffola La pilastola Non penso che sia La pilastola Bello però Ti sparerai in testa A me? Sì 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 adesso Non serve più andare a dormire il giorno ragazzi È l'alba Sì ormai sì È l'alba del giorno dopo Allora intanto Vado subito a vedere Cosa serve per fare la pistola Quella bella Pistola Io faccio un po' di stoffa Che mi faccio un po' di armamentaria Antibus Oh posso fare Posso farmela Ma non possiamo avere dei pall Che lavorano in maniera Meno A cazzo Che vengono tipo Che hanno più statistiche D'aiuto nel building È insultando i nostri pall? No tipo il pinguino Non si può portare a 50% La velocità di costruzione No Per dire Neanche con la statua del potere Sì si può Con la statua del potere Sì puoi aumentare la Se hai le anime Non sprecate le anime Vi ammazzo Ne ho due io Le anime Sulla velocità di costruzione Vanno usate Su quei pall Che hanno Stacanovismo livello 3 O diligenza livello 3 Ok Che così va in combo E hai tipo L'80% di velocità in più E allora sì che ha senso Dagli orecchini di piume Sembrano proteggere la testa Da ferite letali Cazzo sono le piume decorative Sì Mettitele Mettitele Sono della vita in più Un elmo Esatto È un elmo Viva l'elmo Allora vediamo un po' Questa pistola artigianale Come funziona Allora Dai pinguino di merda Dammi la mano Ti faccio soltare Però il letto Abbiamo ancora fatto le pecorelle Andiamo subito Non è un delmo È elmo È diverso ragazzi È elmo D e di Vabbè Ah non c'è un oggetto Stile Stile Souls Che usi E ti teletrasporti in automatico A Al falò Al falò Sì c'è Primordiale Ragazzi È stato prodotto con 55 euro Questo gioco purtroppo Non credo abbia il falò O il tele Mi sto casando Cosa succede Ed o che succede Perché non mi fa prendere la pistola Porco dio Quanto mi inselerei Puoi usarlo come aliante Oppure c'è questo Ragazzi L'ossino del ritorno Esatto Cos'è sta roba Le droghe Come far raccogliere la pistola Medicina contro l'ulcera gastrica Ma che cazzo è Ah vuoi far raccogliere la pistola Dammela dai Perché non te la raccogli Dove me l'ha messa Non ne ho idea Lascia Stava per terra Grazie Devo scappare Cazzo il motivo non Ma non l'ho fatto Ok Mi avresti rincorso per tutto il server Cazzo purella Cos'è questa roba Fammi provare Sono un sacco Fa caccare il cazzo Ma stupida Ma schifissima sta roba Ma non era slot arma pieno Non è slot arma pieno ragazzi Non è Fai vedere Fai vedere arco triplo Ah ma spara in linea Non ne spara tre di seguito Serve solo per avere più range Più hit Più pop Esatto esatto Ma te ne considera consumata una Fip top E quella è il miglior palla Da aggressione A me sembra veramente forte Intanto la volpe Al momento Sembra molto carina Quack 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 Chiodi Componente necessaria per la creazione dei cazzi Questi li ho fatti Io potrei andare in giro un po' per il mondo a uccidere qualche Essere vivente Ti consiglio Di catturare Dieci volte lo stesso pokemon Perché ti aumenta un botto l'esperienza che poi ti danno le catture successive Posso farmi qualche sfera poche O si offende qualcuno E con qualcuno intendo Edo ti offendi Questa ci acconsente Infatti io ho fatto partire la produzione un istante dopo che ho sentito il silenzio Sto facendo qualche sfera Perché voglio catturare un po' di Pall Ok Sì ma fai quelle buone almeno Ma no ma a me Ma sono a livello basso A me bastano queste Però consuma il metallo Ma a me bastano quelle piccoline Grazie le burna Grazie ciavola Grazie ragazzi Non c'ho bisogno di fare quelle Io devo catturare cinghiali Le scimmie Quella merda là No ma è in base al livello In teoria Perché fino al dieci Vanno bene quelle Quelle normali Ma Ma non ce l'ho ancora La gatling gun Per l'electabuzz Ragazzi Sì ma tanto ce l'avrai Fra un paio d'ore Di questo passo È il senso Un'oretta Ma scusa ma che vuoi Un'oretta e mezza E si fa Ma si fa Si fa Si fa piccola gatling Ma si possono installare Delle torrette Qualora ci dovessero attaccare I terroristi Tipo Puoi piazzare Anche i sacchi Ehm Come si chiamano Sì ma adesso vi metto A fare le mura Ragazzi ho deciso C'è tipo i sacchi di sabbia Per far mettere I pokemon Cioè i palli lì Con le pistole Tipo Oddio non ho raccolto Pokeball Quante ne hai fatte 40.000 Ne ho fatte 30 Ma dove sono andate Ah ottieni prodotto Ok Mangia coglione No Che hai fatto Volevo Atturare un pokemon Volante E tirare la sua Attenzione Io ho sparato Con la balestra La one shot Ehm Ma è pazzesco Ehm Gli ho fatto 592 di danno Eh ma perché L'hai presa in testa Che gioco di merda Dice Diego Bass 92 Dall'alto Della sua Esperienza Videoludica Videoludica Senti un po' Esiste un posto Dove distruggere Gli oggetti Per avere Roba Eh sì Dall'inventario Fai butta E ti dà qualcosa Indietro No Assolutamente no Perfetto E allora mi sa che Butterò un sacco di roba Se c'è una cosa Per riciclare Grazie Matt Grazie per i quattro Ma eh Sono un caglione Metteteli dentro casa Così Le usano Quelli che arriveranno Poi Sai che bisognerebbe fare Infatti per questa cosa I Come si chiamano Le I cartelli Con le indicazioni Vero Sono d'accordo Non so cosa sia Un cartello Che ti dice Cosa hai dove Come Minecraft Si chiama Bacheca Qua No Troio infame Vieni qui Orco di appetito No diciamo che Il cosa hai dove È un po' difficile Purtroppo perché I pallo fanno Quello che cazzo Gli pare Quando non mette Le cose in giro Ma hai una cesta Per le uova Edo No O te le metto Le puoi mettere Nella mangiatoria Magari Perché fanno Schifo al cazzo Fate le casse Per cortesia Ok faccio cassa Eh calmo T'ho fatto la domanda Le avete sbloccate Ma se è probabile Siamo a livello 5.000 Quelle di ferro Non quelle di ferro No perché consumo metallo Abbiamo fatto 10 cassa di ferro Prima Ascolta qua però Ti offendi Se io faccio un piccone di metallo Che consumo metallo Per prendere motallo Ah non consumo metallo Allora posso dirti una roba Eh Ti puoi fare La sella Per il cinghiale Che ti farma Il metallo 3.000 volte più veloce Del piccone Prendiamo Cinghiale Dai Fammi ritirare cinghiale Eh Fai vedere cinghiale Come cazzo È fatto Niente Questo pokemon È imprendibile Io lo prendi dai box Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E mentre Tu ci salti Ci salti sopra Fai R2 contro il metallo E te ne prende 10 a botta R2 con la tastiera Non penso sia R2 Però va bene Va bene La carica C'è scritto Carica del porco di Dio L'unica roba è Come drop Qual è l'item Per avere La La skill attiva Sul cinghiale Nel momento in cui Sblocchi il cinghiale Ti permette di Di sbloccarla Nella tecnologia Quella La tecnologia C'è scritto C'è la faccia del cinghiale E tu lo sblocchi Eh ma devi prima avere il cinghiale Se no non Ho il cinghiale Carica madonna L'ho schippato Allora devo farmi il livello Così me lo sblocco Sì perché ho preso la bardatura E non quello Mi faccio quella E anche quella Per cavalcare la merda E allora vado un attimo In giro per il mondo Livello E me lo faccio Così dopo ti piglio il metallo A spam Che a me piace stare lì A fare Le drogo corsi Allora Qua Via Vai Grazie Sabiere Grazie per il quinto caro Bacione Dammi un attimo Per durare Grazie mille Epic Games Eh mi serve il cazzo di coso Mi serve il cazzo di coso Eccolo eccolo Mi sa che è più rapido lui Allora Vedere se posso già sbloccare qualcosa Perché non l'avevo ancora catturato Il gioco costa ragazzi 35 milioni di euro Produrlo 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 Credo più o meno Ragazzi Io non ne ho Non l'ho preso io Vuoi che faccia Faccio piccolo dungeon No vado a farlo No vado a farlo Vado a farlo Ah le fibre Allora aspetta Dividi la fibra Devo liberarmi il cazzo Viva la fibra eh Vabbè abbiamo 2000 di fibra quasi 1400 Eh ovunque La volpe è incazzata come i mostri eh C'è un po' di pal Dium buttiamo dentro Un 3000 di pietre Poi mettiamo a fare di nuovo Qualcuno a fare le pietre Di pietri Sì sì Allora Ok Però non puoi lutare la pistola Fino a che non hai comunque La tecnologia per Sfera pal Proiettili Proiettili Questo fa Sto farmando livelli Pur io Io salgo per sbloccare La tecnologia del cinghiale E pigliare più velocemente Il metallox Allora il gioco è figo ragazzi Vi deve piacere il genere Però in realtà è bello anche Non ti piace magari 100 ore Se non ti piace il genere Però È figo A me il genere di solito Non piace Eppure mi sto divertendo In sti giorni 30 euro Boh Se avete il pass Microsoft è 10 per Sinceramente Però Per ora È due versioni indietro Allora Mettiamo Ah ok Questo non lo zabevo Si considera Non possono fare i server Come noi Ah coglioni Poveracci di merda Non lo so Perché Sono alla 0.1.0 E noi siamo alla 0.1.2 0.1000 Vabbè Insomma Quello che è Non ho idea Il gioco ci sta È divertente A maggior ragione Con amici Se avete amici E vi piace anche solo Un po' il genere Ne vale la pena Tipico gioco Che ti diverti Un botto Ragazzi C'è proprio Io metto anche Le mt Qua Le mt Ci sono dei frutti Che sono delle mt Ah proprio mt Ma vabbè Sì sì Come Sono dei frutti Dico Non so One piece E le anime dei pal Sì lo so ragazzi Che conviene catturare Le anime dei pal Le abbiamo Nei depositi Sì Si stanno da qualche parte Sono in giro a farmare roba Io Perché c'è un Falce del fuoco Chi cazzo ha fatto un fuoco In mezzo al cazzo Ma al posto della pil Qua facciamo la pal Quindi Grandissima battuta Che probabilmente Non ha fatto nessuno Ancora Non sarei dire Così ad occhio Mi sembra nuova Questa È probabile che sia nuova Io l'ho ancora sentita Bella bravo Sinceramente Ah ok No perché Il titolo della mia stream Si chiama letteralmente Peel word Capito per questo Me l'hanno fatta un po' di volte A me Ma è facile che a me lo facciano A voi meno Ci stanno tanti nodi Di metallo Basta che metti Delle tartarughe Che spaccano il metallo Che si trovano Meno 50 Meno 50 Dio È tutto estremamente complesso Però porto pazienza Perdonatemi Mi fate a vedere le coordinate Come le vede Ah le coordinate sono in bassa sinistra A dove No io c'ho Nella mappa Ah oddio Ma porca puttana Ma ho shotto tutti Non riesco a catturarli 140 Grazie Nicola Grazie Nicola Vecchio Io vorrei tornare di qua però Denaro E il denaro alla fine È solo per il mercante O è venuto a fare qualcos'altro Vedo No 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 Sempre per il mercante Che ti sblocca i progetti però No grande caro Con alt F4 Trovi subito le coordinate È bella questa Con alt F4 Trovi subito le coordinate Con alt F4 Tua madre è una puttana Coglione Appena ho sentito l'alt F4 Ho sperato che tu continuassi a sentire il consiglio Ma vai a succhiare il cazzo No 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 Aspetta che mi faccio una sella Per il cazzo di Pensavo avessi Pensavo avessi Veramente premuto alt F4 Zio ho detto Stupido Ci ho pensato un attimo Poi ho detto no Ma poi c'ho il suo col pad Che cazzo premuto Che cazzo dal pad È vero Anzi si accunta per i 41 Bentornato È vero È vero Cioè stai col pad Sì Che culo che stai col pad Probabilmente avresti premuto Re pinguino Comunque basta sì Sulla mappa in basso a sinistra Ci sono le coordinate Quando ala apri Oddio qua c'è un nemicone Elfidrian No banana riscrivimelo qua Non ho capito Grazie bole Grazie Ma ascolta qua Ma Cazzo lo dire Niente Tu quante sono i palle in totale? Un centinaio? 111 104 più 7 Più però sta in teoria Sì era un numero strano Questo qua che hai detto Poli È molto più veloce Del lupo Questo qua Attenzione ragazzi La svolta Allora aspetta No non cattu Sparare Volpe di merda Hai detto vixi Se lo metti vixi Non ho vixi Io non ho mai catturato vixi Ma sul serio? Vixini Non ho preso il pokemon sesso ancora Oh ma qua c'è un dungeon Sto esplorando un botto di mappa Io qua in giro Però mi sa che i progressi Sono individuali Ho capito Non ho mai preso vixi Ho capito Viva il vixi È morta la volpe E come l'ha reso la volpe? Eh devi metterla nel box Devi metterla nel box E lasciarla lì 10 minuti Nooo È morta la volpe Allora Ci sta Ma cazzo Morto dal re pinguino Stai facendo il re pinguino? Sì Vuoi farlo? No 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 Fatelo fatelo Kimpin Eh Io qua c'ho Vabbè Io qua c'ho un bel dungeon Ma è l'eroglio 29 Grazie carlì per 26 Ho ucciso io la volpe Ma no È morta di No ragazzi È incredibile questa cavalcatura qua Cos'è? Grazie Matt Grazie Samus Grazie ragazzi C'è strano Che ci sia una citazione Un po' così Diretta o meno Chissà Allora Ah era il vento degli alberi Dio brutto Ma ragazzi Mi hanno detto che i vixi Fanno roba strana Ma non so dove si trovi Nei vixi Perchè io? All'inizio Vixi È il lupacchiotto Di merda Aspetta Ah quelli piccolini Io li sto catturando Quando li trovo Ok Lompo Prova a vedere cosa fanno Se li metti in fattoria Verifico subito Appena prendo il pinguino Aspetta Prendiamo floppy La troia Lo prenderò prima o poi No? Ecco Dio Floppy di merda Entra 17% No ma non ancora Mania Ma queste cose Le fixeranno Sicuro Come equipaggio La mega La super mega Ok ce l'ho Eh no Non l'ho mai catturato Vixi Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Pensavo le equipazze Da seno automatico Invece mi sbagliavo Godo Godo tantissimo Piccolo Pove elettrizzante Godo veramente tanto Olè E com'è Leafman Mitra Va Esci Entra O fa cacare Quanto salta Sta bestia Bellissima Guardate quanto Cazzo salta Ok Ok Eh ho capito Questi rispondono tutti Eh Potenzia statistica Io aumento peso Via Vixi Adesso c'ho La possibilità Di fare la Volpe Mitra Eh si va bene ma Eh 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 Un dungeon Com'è la Volpe Mitra Qualcuno l'ha provata? La Volpe Mitra? Sì Vabbè è possibile Cos'è la Volpe Mitra? È un Adesso ti dico il nome È il palo quello verde Che lo equipaggi Ti fa da mitragliatore L'Infac L'Infac È il nome E chi cazzo ne so Io ti dico subito L'Infac Leafman Sì che poi tu hai letto male Probabilmente Edo eh No 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 È l'Infac Ok sbagliato L'ho io No non c'è perfetto Questo vende sborra Non penso Cos'è frutto della tecnica Pioggia Ci dà Frutto Autodistruzione Ha proprio un ripato Grazie Grazie per i 900 bits Grazie per i 100.000 euro? No Ah no Perché 100 bits No perché C'ho da finire di pagare il mutuo Io in caso Se C'hai Voi Ma non rompere i coglioni Che già non paghi la matrix Ma che cazzo dici Che non li pago Cioè adesso Mamma mia Fai schifo al cazzo Sei in abominio Abominio Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo ti riferisce Oh mamma Mi riferisco Mi riferisco Oh mamma Oh mamma Comunque sono tornato In base Adesso creo la selle Vado a fare 100 unità di legno Vixi Vixi Eccolo Vixi Preso No devo usare l'altra ball Ma tu lì sei un coglione ragazzi Certo che non lo pago Cazzo volete Scusa Porta pazienza Ma porca troia No li voglio E' l'ha sciottata la scimmia Vado La scimmia è forte Ma respona Chi Il pinguino Sì Ok Ma di ora respona Tra un'ora Ah Ah mamma mia È per questo che mi riusavo i palla Ragazzi perché li sciottano Ambecile Ma devi entrare All'81% Perché non entri Non entri No vabbè ragazzi 81% non entra Eh già Sono le 150 Mi hanno insegnato questo Sembra una puttanata Non manca secondo me Una puttanata Però me così dicono È vero Da un'ora Sì Rush Rush Roar Sì le base Sicuramente le base Cioè Tumorente Dobbiamo fare party Vabbè Ascolta ma Posso mettere uovo in incubatrice? Certo Godo Vediamo cosa ci vende il nostro amico Un grande cane Scusatemi ragazzi Ho fatto uno starnutolo Sì 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 abbiamo sentito Eh no non volevo Infastidirvi Scusami Poli Penso che tu debba mandarmi una PEC Una PEC? Se vuoi te la mando eh Per accettare questa Questa scusa eh Al diete dico Ultimamente ne ho mandata qualcuna Quindi Guarda io Io stai Dai mano Io sto mandando Da mesi Mando delle PEC Alle mie amministratici di condominio E mi gostano Gostare la PEC? Sì sì Allora gostano la PEC Mandata il 29 novembre E io Gli mando un messaggio E loro gli dicono Sì sì Domani guardo tutto Ti rispondo Sì sì Ma questa cosa ogni giorno Sì sì Ogni giorno E' incredibile Ma fargli arrivare la SWOT sotto casa Non è possibile Il comune di Roma No Che meglio Poi sono capace di dirti Ah devi pagarmi 10.000 euro Scusami Io sono tre mesi Che ti sto correlando Però quindi Sippata al volo E via Grazie Ho tre Per i tre sabbetti regalati Grazie Allora Sì Va a letto Non mi pare però No no Perché fra un po' Fa notte Questo intendo Ah certo Era nel gioco Era contesto lì Dopo nel gameplay Per i 47 Bentornato Grazie more Quel pinguino Se non si leva dei coglioni Dopo che ti dà una mano Ti giuro Meglio fargli saltare la testa Ok Quindi adesso io posso cavalcare Il mio cinghiale No è pazzesco Ma per quanto tempo La cavalcatura rimane? Sempre Ma è folle The best in towns Molto figo E posso cavalcare anche Il lupo acchiotto Perché? Più veloce il lupo acchiotto Immagino del cinghiale No? Sì assolutamente A meno che non trovi Con dei bonus strani Però sì Quindi io dovrei anche vedere Che Ma dove va? Sta scappando il lupo Ma c'è sempre stata Filippo È di fuga Come faccio a vedere eventualmente Ci sono tutte robe stranex Robe stranex Stranex Allora A me questo Una statua di lima So che pokemon prenderex Usa le piante Per portare un tocco di colore Nella base Non sai che pokemon prendere Sfera giga Come Ah il cinghiale Ce n'è un altro Ma se Ne ho Dieci Almeno Come faccio a vedere Edo Eventualmente che bonus Di che livello Ha il pile che ho catturato Con Devi vedere con Adesso dalla tastiera Vabbè dimmi Dalla tastiera Dal pad Ci penso io Dovrebbe essere F Una roba del genere Controlla bene C'è proprio scritto Visualizza informazioni Palle Ok Allora Wow Cazzato come un mostro Un lupacchiotto Non ce l'ho Facciamo così Deposito la merda Deve Give me Deve Deve Dei frammenti di palle Come to the club Ah è vero Ci mette dieci minuti Informazioni di palle Allora livello 1 Abbraccio di fuoco Abbracciami il cazzo Poi Quindi tu mi devi dire Che Tu metti quelli Con stacanovismo A più tre Giusto Sì 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 Quindi magari io c'ho qualche Sono utili a Sì nella base ovviamente Cos'è diligenza Diligenza anche dovrebbe essere Controlla bene Guarda i dettagli di diligenza Velocità delle attività aumentata Al 20% Diligenza e stacanovismo Dovrebbe essere Sì 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 Gran motivatore Incremento delle velocità delle attività Ah ti fa lavorare più velocemente A te Gran motivatore C'è un gran motivatore Più tre E un stacanovismo Più tre E questo calo No è una merda però Stacanovismo aumenta la sanità del pokemon Non aumenta le sue La velocità nelle azioni Aumenta la Aumenta la Quanto un pokemon è sano Ci mette più tempo ad ammalarsi Credo Ah Perché se vuoi io Eh questo mi dice Allora è diligenza Allora è diligenza quella che cerchiamo Diligenza è quella che aumenta la velocità delle attività Allora quella più tre serve Serverebbe diligenza più tre Sì Ok Che cazzo c'è la guerra qua Io voglio provare mitraglietta Leaf monk Tu c'hai un velocista In base Abbiamo un debolezza Andrebbe cambiato un botto di roba In base Vedo che c'è un sacco di No no Ho messo a cazzo In base Perché stavano formando all'infinito Ok Ah giusto per ridurre Ok ci sta Sì 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 No perché non sapevo dove cazzo Ficarmi la roba La maga è una bestia però eh La maga è velocissima È velocissima Puttana tra io Ce ne sono un fottio di questi coglioni eh E che stai insultando eh Rispetto Domanda finale ragazzi Io vi faccio la domanda Che secondo me avrà una risposta molto brutta Ma io come uccido i pall Per levarmeli dei coglioni? Eeeh Devi farti la mannaia Devi farti la mannaia E poi È brutta la cosa eh È brutale Abbastanza Utilità Che tu li squarti vecchio eh Utilità Si vede proprio Eeeh Ti Ti liberi un posto Del pall E ti dà la Il suo loot Tipo Di quando Come quando lo Ammazzi Immagini di doverlo Deve averlo in squadra Fondi lì nel silo Senofilo Non li fondi Sì devi averlo Esatto Devi averlo Ah questo è In squadra No ma questo è finto Ah tu li butti dentro Ed estrai le Aveva ragione Filo Ma quello è il silo Per potenziare Non l'ho mai fatto Quindi tu ne selezioni uno E lui viene potenziato Da tutte le altre sue copie È vero Sì allora Il primo è 4 Poi 16 Poi vatti Via via Quindi se io tipo volessi potenziare La mia volpe Gli brucio dentro altre volpe Porca troia 4 volpi Bella sta roba È bella Sai Quanto è Diciamo il valore Del potenziamento Eh allora Ti faccio un esempio Tipo la mia volpe Al 12 Grazie Sì io gliene fondo 4 Aumenta la vita di 50 Quindi circa il 5% L'attacco del 5% Difesa uguale Però gli sale di livello Anche la skill La skill diventa di livello 2 Quindi abbraccio di fuoco Che fa danno di lanciafiamme Aumenterà Ora quando si vede il valore Sì certo Puttana troia Quindi li puoi veramente Vabbè Eh sì li puoi sborrare Provo un attimo a decapitare una pecora Però se Gli dà fastidio questa cosa No no Palle in squadra Eh Ah ma devo fare giustamente Mannaglia Che cazzo è? Ti devi sbloccare la tecnologia e fartela Sì sì già fatto già fatto Lo sto creando E copaggiartela se non sbaglio Sì lo so che si possono scopare i palle Ragazzi so bene questa cosa Così Leonardo Brù è contento No non credo sia Poi cazzo che è? Polizia? Poi un diavolo Polizia? Diavolo? Oh porco dio che legna Voglio provare Sgozzare una pecora Vedere com'è Loopmon Ma che è? Ti veramente Io ti Te lo giuro Ti Distruggo tutto quello che c'è qui fuori Te lo giuro Sì c'è Non Cosa hai fatto? Mi dà una mano e poi mi fotte la roba Cioè non è Così semplice Ma perché ti metti a spammare? Ti vedo che provi a premere F Cioè si vede benissimo Non è qualcosa di nascosto Capito? Ragazzi ho trovato un Gyarados Che cazzo dici? Dove? Yormontide Yormontide Cattura 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 No metti segnalino È già segnato sulla mappa ragazzi Non serve mettere segnalino Vedi? Allora è tipo un bossino dell'area Ah È un bossino dell'area sì Come evoco pecora Ok pecora evocata Un attimo Yormontide È il secondo pal più forte del gioco Ah Ho capito Davvero? Ah C'ho una domanda per chi ha detto questa cosa Come fate già a sapere questo dettaglio specifico? Ragazzi ma che so questi Ti caugnito Come faccio a uccidere pecora? L'attacchi? Ah la devo proprio attaccare? No Ah no scusami Fai le emote come se volessi accarezzarla No Che cazzo dici? Sì sì Fai accarezza E poi dopo accarezza Cambierà nome Diventerà elimina 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 la Ma dai ma è censurato Eh sì Eh sì No Ah niente Unlucky C'è un nito E la ricompensa di avere sgozzato pecorina? Adesso lei faccio una polizia di miei Palli Oh Dio E vuoi entrare Merdoso Brutto gesto Un mostro Eh raga Che cazzo me ne faccio? No ragazzi Carne di lamba Le lana Ah ti dà proprio ricompense Ucciderli Madonna che cosa malata Sì 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 Però è Nel senso sono le stesse ricompense Che avresti Sì sì Catturandoli Comprendo Comprendo Questo sui cos'è? Non fondo le pecore Fanno caccare Ammazzo le pecore Le pecore le ammazzo Le sono da catturare un po' di roba Io vi chiedo Volete andare a letto Mi posso permettere di muovermi in giro Per il pianeta? Muoviti Ok Che Che pessimo esempio Ma cosa devo fare? Devo andare in giro con gli animali morti No Porco dio Ho trovato rubino eh Niente rispetto per le pecorelle Rubino e zaffino Incredibile poli Ho trovato un rubinone Cosa te ne fai di rubinone? Bene Ah si vende ai mercantoni Rubinone si vende a mercantone Non ho sgozzo rubino Che poi non penso tu possa Ok ok Oh sto catturando questi qua Cattura 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 Porco dio ho fatto 4000 E uuuh imbecille Sei svegliato? Oh Ah se li uccidi davanti agli NPC Diventi ricercato addirittura Adesso non ho mai diventato rinforzo Porco dio Devo andare a mettere l'ovetto io Voglio mettere l'ovetto Perché ho catturato di là? Ah no si allora Già capito che domani mi sa che tocca giocare a pallward eh Scusami eh Cinquantina di ore Fammi fare un po' di cazzi Ok Eh no ma c'è l'obbligo purtroppo di scoprire meglio i palle È un obbligo Morale Livello 19 boss Vado subito a sborrare Vado subito a sborrare Ma cosa c'è là nella tua base Vado subito a sborrare Allora a 4k capito Però prendo quel boss Dai no non penso proprio Ah ok Perché è Darkrai appunto Stavo per dire Viola ma Darkrai Aspetta fammi vedere il boss che è subito Perché ha le piamme Sì insomma Non li avevo mai visti i braconieri dormire ragazzi Prima volta Eh io rubo frecce se non dispiace a voi Tanto non le usate Allora finchè fate le frecce va benissimo ragazzi Tanto voi non le usate frecce No sì vabbè No le usiamo però Ma anche per quelli che arrivano dopo ripeto Per quelli che saranno a livello basso Non spaccatevi la roba Mettetela nelle casse Ok Se avete balestre, archi, equipaggiamento Lasciala agli altri No non faremo la Perché quante magari serve Non faremo la kaizo palle ragazzi Tranquilli Kaizo palle non penso sai Quante frecce posso fare? 3.700 sono troppe vero? Eh forse No non li segna nella mappa i dungeon Però ci sono dei pal che ti aiutano a vedere dove sono Dai qualcuno, qualche pal venghi Sì ti fa ad esempio quello psico Non ci sarà mai la pal V ragazzi Grazie qualcosa Grazie caro un bacione Bentornato Palle perché non fai cagare nel puzzo i pal? Dai ragazzi ma era c'era 200 E' andato Eh ci sta Non posso chiamare un pal A darmi una mano A un lavoro che sto facendo È una pistola molto buona Puoi prenderlo In braccio E lo lanci addosso al lavoro che vuoi fargli fare Eh no Era one shot Ho capito ma Gli ho tolto 144 A 200 di vita E' morto Ma che Non ha senso Vabbè grazie Va bene Mitta Succhiami le palle Dove va a lavorare Ah va a lavorare subito lui Guarda che brava Gelli sente che va a lavorare Cioè io anche il mio che Diciamo è il mio Pal di compagnia Lavora Sì sì Cioè conviene sempre Tenerno fuori Perché lui vede che siamo qui E dice Godo Esattamente Dice proprio così Però se io non ci lavoro Guarda che bastardi Oh ma la maga Io voglio la maga E' velocissima la maga Amalati No dove vai dove vai Vieni qua Porco dio Vieni qua Che te sei molto forte Te sei fo So fai Ma che ca Ma vaffanculo a te Ma porta pazienza Ma sto raccogliendo i palle Ma non sono quelli sbagliati Bloccata questa cosa comunque Ok Vaffanculo Lavora lì Ah ma c'è già lui Tipo scogliattolo Man Non mi ha mai preso Scogliattolo Man Eh non so come si chiama Dio porco Cane Vodo Sta avendo delle problematiche No a me non è mai capitato Di far evolvere un palle Però ho visto delle forme Evolute Tra virgolette Dello stesso pokemon Grazie per i cento Ehm No ragazzi Non mi ha mai colpito Con il primo colpo Il secondo sì Ma il primo no Questo live Do di merda Ma che figo Ok ok I proiettili io te li metto Tranquillo I proiettili te li metto dietro Anzi Ma i proiettili ficati lì nel culo Ma neanche fare così Li ho dilutati con tanto amore I proiettili no Non li avevo sborrati I proiettili Perché io voglierò Tutti Ma che è ultra scopabile Avete un problema ragazzi Guarda che Sua madre è scopabile Sì Vabbè Sì Quell'altro Sì 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 Aieio Aieio Sono anni che prendo il cazzo nel culo Dai Comunque Cioè Ieri c'era un ordine nelle ceste E' andato tutto Puttane Tutto quanto Si sono messi lì a fare i cazzi loro I cosi Cioè la cosa perfetta sarebbe Grazie Che co Fare che ne so Gli fai la stanza con La cava mineraria Metti un pal Un letto Una cassa E quello fa solo quella roba lì Però Comunque figata Che puoi dagli Se tu dai le anime Ai pal singoli Però conviene potenziare solo quelli che hanno il più tre Probabilmente Devo andare a prendermi la roba La cosa più vicina per andarci è Qua Guarda come lavora il merda Bravo Lavora bastardo Bot rand Randalone Mi sono dimenticato di Cacarti Riscrivimi adesso su Instagram Per favore Randalone Che così Randalone Perché se no Non mi ricordo mai di accettarti la richiesta Cioè Non ne ho Allora mi serve Mi serve Allora arco ce l'ho Torcia ce l'ho Lancia ce l'ho Mi serve ash Per legno Legno ne abbiamo bisogno Edo O skip No legno stava a posto Legno abbiamo 15.000 di legna Direi proprio che possiamo skipare allora legno E allora mi faccio un bel Nella trabilità proprio Piccone Di pietrone E vado a farmare un po' di roba col cinghiale adesso Vado a firmar metallo Dove cazzo devo andare là Giusto sì Bene Mi do fastidio qua Che merda All'improvviso 200 frecce che io le uso Dai Qualche coglione venga a prendere E via Scam siamo stati scammati Il gioco per essere scaricato Il taso di comprarlo In primo luogo In secondo luogo sì Seguite Simone Brucato ragazzi Siete rincoglioniti alla base E questo è il vostro problema Cosa? Niente È arrivato un raid da Simone Brucato E ha detto siamo stati scammati Gli ho detto ragazzi Seguite Brucato Di base siete rincoglioniti alla partenza E quello è il problema Cioè il problema non è dopo Il problema è prima Simone Brucato Simone Brucato Lo streamer Chi è? La mucca? Chi cazzo è? Ma tu perché dovrebbe essere una mucca? Perché è bruca? Brucato Bella però Sprende Simone Brucato È la versione alternativa di Nanni Qua qua Dove dove dove? Non morire porco Dio Dove sei? T2 vengo Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto Sto T2 T2 Non morire T2 Sto arrivando Sto arrivando Sono tipato Sono tipato Sono tipato Eh vabbè ma te rischi di morire Cattura Cattura Ma prendilo No mi dai Prendilo però Dai Sto arrivando Me lo fai vedere Ma tanto non ci sono i veri shiny Eh ma non mi devi rompere il cazzo Ti ho chiesto una cosa Poi farla Guarda che te lo ruba Guarda che te lo ruba No non me ne frega un cazzo Non me ne frega assolutamente niente Non ti entro se vuoi eh Sono qua dietro A livello 21 Che ha un gatling Allora che ci penso Io posso cavalcare lupo però Sto arrivando Ti aspetto prima che lo imita Sì Sono qui Se magari sto lupo di merda Si facesse cavalcare Ok sono qua dietro eh Se guardi la mappa ci sono Ma ti consuma pochissima stamina il lupo Per quanto cazzo veloce Comunque grazie brucato di merda Sono qua dietro eh Tt sto arrivando Non catturarlo In procinto alla morte Non catturarlo Non farlo Fatti uccidere dal lupo dai Allora tfante normale è così Fammi vedere il primo shiny della storia Tu che mi cazzo imbecille Manco fa così però Cioè ci sono i bracconieri Con il lancia fiamme ragazzi Eh prendilo uccidilo Ruba lancia fiamme a bracconiere Sono qui eh Tt mi vedi? No Ah si eccolo Porco dio è gigante Eh ma infatti sono tipo Come se fossero gigamax Cattura 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 shiny vai Ma è assurdo Sei imbecille È folle è pazzo è pazzesco è follia Perché c'è fuak qui dentro? Come dire Eh Per sapere dove Quando ci sono in giro Il torno a te Senti un suono Sì l'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Quello si No ma oltre a vederlo Lo senti proprio Per fare il 26 ragazzi Senti proprio un suono Ma porca madonna Ma il cinghiale è ingovernabile Quando Prendi quella roba lì Eh quando prendi quella roba Lì si Ci devi prendere un attimo la mano Uuuu Ma se dai che cos'è Un pal fortunato Eh Leggi C'è nella descrizione È andato al box Devo andare un attimo a casa Ma sarà quello lì no? Sì sì mi dice che ho catturato Un pal fortunato Eh sarà shiny Ma perché i shiny Sono fortunati eh Hanno fortuna Eh magari hanno Sbloccano prima delle robe Comunque è vero Vengono giù in 4 hit Le cose di metallo Ti farmo tutto il metallo Della storia Edo adesso Te l'ho detto Tutto quello che c'è Ragazzi l'opera ha fatto il 26 Eh sei molto bravo No perché adesso Che ci sono tutte quelle cose Se andate in giro Livellate un botto veloce Oh Generatore elettrico Dove fare? Faccio un piccolo dungeon Dungeon Titti sei qua ancora te? Vuoi fare il dungeon? Arrivo Faccio un piccolo dungeonino Che cosa hai scoperto? Perché ho un HP? Vado Ho un HP Che è 942 con una cattura Odus Te quando ci sei Se vuoi Titti stia Vado a dire Ma c'è un trafficante qua dietro Hai visto? Ma perché non va Arrivo eh Ma chi è sto tizio il 40? Perché ha un HP? Eh non lo uccidere No no Ma non penso che ce la farei Comunque ucciderlo Anche se fosse Perché non mi sto rigenerando? Esamino la mercanzia Compro merce di mi contrabbando No ti vende i pall Sì 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 ma Infiniti gold Ho una domanda Raga ho un HP Se mi toccano sono morto Ti dico che c'è una cosa Che puoi vendere Che ti dà 500 monete Tu sai che cos'è? Sì Gli umani Era per poi la domanda Ah scusa Avrei detto un'altra cosa Ma andava bene anche gli umani Cioè teoricamente è giusto umani Ok perché sai che cosa si può fare? Sì Sgozzarli Va bene Allora niente Va bene Ehm Conviene vendergli i palli A questo coglione Oh io non l'ho mai fatto Ma più che altro Sembra che ne abbia di fighi Cioè qua c'è Criolinks Però al 9 È una merda Versione Steam Brucato Sì C'hanno anche l'abilità di merda Teo dimmi quando ci sei Se vuoi Titti E ci facciamo il dungeon al volo Oh mi sto avvicinando da te Mi sto avvicinando Tanto entro Tanto mi sembra che sia sinkato Quando entriamo Raga mi sei buggata la vita Non mi va più su Non capisco per quale motivo Perfetto Let's go Grazie tiramichus Grazie Gimmo Grazie ragazzi Benvenuti Bentornati Merda ma i dungeon Sono tutti stile Merda dentro Magari si sbaga Col teletrasporto No Fammi provare a lanciare Ma muori muori Ma se fai Ragazzi Appetito debolezza Che succede Ma fa cacare Un debuff Buggatissimo È una merda Limpfunk del cazzo È la sua abilità Debolezza che è? Che schifo Mamma mia Quindi a ducklet È il più forte della storia Io posso usare Le skill qua dentro Posso cavalcare Un palle qua dentro Sì penso di sì Sì Allora mi prendo tutto Il materiale sborra Debolezza Aspetta Magari serve questo 100% buco Le texture 100% No no 100% Ci entro Non si toglie La debolezza Signori Zolfo Orcodio Zolfo Ma l'ho detto Che è utile Eh ho capito Ma pesa 100.000 kg Forse è per quello Vieni qua Stupido No vecchio No no Io lo devo Droppare Pesa troppo? Eh no Ma serve il metallo Ma sì ma pesa infinito Il metallo Io ho 600 kg Ma 50 Sei già full Va che roba 70 di metallo 600 kg Eh sì È infarmabile Sta merda Eh sì Aspetta che Rientro dentro Perché Mi si è buggata la vita Non so per quale motivo Eh io lo lascio lì E facciamo il dungeon E vaffanculo C'è sinistra Centro Destra Olè A nome del giocatore Come si mette In che senso Appena Sto arrivando Sto arrivando So qua Sì Aspetta Sto arrivando In piura preziose Ho Un cuore che non cessa Di battere Tonto da un pal I mercanti offrono Cifre notevoli Per averlo Tu vuoi andare dritto? No Non ho idea Non possiamo sapere Dove andare Quindi va bene Oh Oh mamma mia Chi sei mici E qua nell'acqua Ci sta il pokemon Sì No non ce l'ho in squadra Pippo Però so qual è l'alpaca Che ti aumenta di 200 Me lo diceva prima Edo Facciamo qui È qua la stanza del boss Sì King Paca Chi c'è qua? Non vediamo il gioco Siete Vabbè Abbiamo un giga leafman È un giga leafman Questo Come catturare? Bah No Proiettili Sono qua a fare i proiettili Non mi prendo i proiettili Non so perché Non cazzo Diciamo Ma tu lo vedi? Tu lo vedi? È dietro Sta facendo il giro È questo qua davanti a te Scusami Allora Se voi andate Diocane che sperla Scioltato cioè In basso a sinistra Oh ho capito però In basso a sinistra Sì ma ha scioltato Ma che danno fanno? Dovete cliccare quel tasto là È proprio dentro il gioco Uccidi quei coglioni E poi E poi Uccidi lì Ti sgossano magari Ma sono morti Sei finiti Mi hanno tirato l'ultima sberla Prima di morire Ho capito Ho capito Ma non ci ha dato niente Non ho capito Forse dobbiamo uccidere No le ricompense Sono a fine dungeon Un coniglio rosa Che fa per due proiettili Ah c'è ragione Ci sono le due ceste Esista Sono proprio per i proiettili Sì sono il 22 Allora È quella Pigliaio Piglio destra Poi però direi di fare anche il resto Ma sì sì Frutto e rubino Frutto tecnica D'erba Raffica di femmi È il frutto Il frutto È l'MT Organo elettrico Ah Gli permette di insegnare quella mossa Ah zee Organo elettrico Tu considera che io non c'ho un cazzo di posto Secondo me è qua Quindi se luti Luti tutto te Perché io non c'ho Cioè c'ho 5 kg Io ho 350 Aspetta Non c'ho 5 kg perché c'ho tutto il Metallo di merda appresso È ok Sì ways Qua dovrebbero esserci tipi elettrici Da qualche parte Eh ci hai preso Ci hai preso Dino Guarda come corre il bastardo Anche in acqua Andiamo di qua Imi dovrei potenziare Che non so che cosa potenziare No non l'ho preso Io sto tirando su Su PG Resistenza Resistenza e peso Io e basta Ah tu stai mettendo resistenza Io sto mettendo Anche Velocità di costruzione Io sono resistenza e peso Al momento Dove cazzo sono Quegli scogliattolini Raici del cazzo Ragazzi Kiss Kiss Io sì ma sto andando in giro Ed è tutto vuoto Non c'è mezzo nemico Devo trovare Ok Sì ma no Ah c'è una cesta Vabbè Niente Dentro Soldi e basta No non si deve liberare Tempere ragazzi Non è Dark Souls Dipende Henry Quanti siete? Cioè c'è c'è Henry 96 Vuoi aprire un Un coso No un altro server Vuoi aprire un altro server Un altro server No vabbè ma ho 16 posti Ma fai legionare qua Sono i ragazzi della Matrix Sono due Sì fatti Ma non si poteva ampliare a 32? Sì si può ampliare a 32 Non so se poi si salva Comunque non c'è una sega qua dentro È vuoto Perché io ho preso quello da 16 Poi non so se posso effettivamente ampliarlo Upgradare robe Non lo so Ah comunque Sì sì perché prendi Prendi il salvataggio del mondo Cioè Prendono il salvataggio del mondo E si sposta su un server più ampio Un attimo stavo rispondendo Al ragazzo in chat Come è abituato Come fate a sapere tutte ste cazzo Di porco dio Di coordinate ragazzi Ah beh Wikipedia Ma com'è È incredibile Comunque Titti possiamo Andare via Andiamo via C'è un cazzo È vuoto Aspetta qua che c'è È di qua No ma è vuoto sto posto Cioè non c'è Non c'è nemico Cos'è questa cosa? C'è un mini Se vuoi c'è del palladium Progetto per abiti per regioni calde 2 No non ci sono poche Da catturare No niente È vuoto Progetto per pistola Ne ha due Progetto per balestra Domanda Ma zanne selvagge Fa danno a Se vuoi raccogliere palladium Tu che hai posto Zanne selvagge Fa danno Sì Sì però no Ma ce l'abbiamo il palladium Perché si può generare dalle pietre Questo non è un problema Ah minchia Questo non si lutasse Solo nei dungeon No 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 Ma l'unico problema è solo il minerale O anche lo zolfo No ragazzi Questo non stiamo andando a conquistare fiume Oh me no Perché no No non lo stiamo facendo Anche se non c'è all'interno del gioco Ma non c'è all'interno del videogioco fiume No no l'hanno messo L'hanno messo Ah una nuova patch Ho capito Ma non ero aggiornato con le novità Eh no Perché sarà la versione del game pass La tua ancora Ma porca madonna Come si esce da un dungeon O vai alla fine dove stavamo prima Che c'è il tre da sport O tu non hai lì Sì è che Ma sì C'avevo scritto esci Ma era dietro di me Perché ha messo 603 frecce a fare Eh 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 Che voglia Ti ride Eh Ma che serba Mannaggia alla madonna Ma io adoro le archi e le frecce In questi giochi Che cazzo ti devo dire Allora Allora effettivamente 600 sono tante Non posso darti torto Infinite Però considera che sto arrivando Con un bel po' di metallo adesso Eh me ne mettono una fornace va Adesso ragazzi ti faccio Ti caccio la follia di mezza stagione ragazzi Oh poli 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 Allora Allora Ricordo questo quanto sta Tecnologia Ma qua c'è painting Il re Sì è il pinguino Però deve responare A parte il fatto che la fontana Non l'abbiamo fatta Sì perché è giallo Edificare Aspetta No edificazione Più avanti Ci sono mount volatili Non ne ho idea Sì va al 29 Sì sì ci sono Volanti Al 29 Ok Allora io Premi ieri Io ieri prima che tu mi chiamassi Mi stavo divertendo È chiaro che In gruppo ragazzi i giochi sono 10 per Non c'è un cazzo da fare Ti diverti molto di più Finché la gente ha voglia di fare Perché se invece è solo per cazzeggio Gioca da solo che è meglio Sì no beh Ovviamente Sì sì Comunque è tutta un'altra cosa Esplorare col lupo È un altro gioco È un altro gioco E poi vedrai con l'uccello Col volox Sì sì Aspetta È in ciclopedia Fammi vedere dove cazzo Ma anche Ti sei preso Il teleport al boss qua? Entra nel dungeon Territorio degli uccelli Graciali Ma come c'è un altro dungeon? Verso il rosso Che dungeon è questo? Oddio ma è diverso Questo è un castello Ok Ah ma c'è il pinguino qua dentro Qua Ah quello là sotto Sì 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 Ah no Non sapevo se si accedesse dall'alto Mi aspettavo tutti ingressi simili Ad alcuni Dove è Dario? Eccolo qua Giusto Ok C'è Dario? Pokémon scimmia? Sì no Dario moch Immagino Ma che vuole giocare? No no Moonride Ehm Vuole giocare? Vuole giocare Moonride? Può scrivermi? Dov'è? Ha scritto sopra Vabbè quel merdoso Tombat sta levitando il lavoro Ma c'è un bastardo Che non sta lavorando in base? Lurido Sì poi Un lurido coglione Dario Puoi entrare Dario Tu hai il TS Nostro Quello di Mela Che l'ha Che l'ha Perfetto Che l'ha Perfetto Che aspetta Sì 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 ce l'ha Gliel'abbiamo fatto scaricare recentemente A meno che non l'abbia cancellato Vado L'Aido L'Aido Dove ti metto Tutto lo schifo Edo? Dove? Il ferro Il ferro Nella cassa vicino a La segheria I cazzi Ehm Ok Sì Tra la segheria E la E la pressa Sì Bravo E tolgo le ossa Un attimo Dove è il mio elefantino Ah Ma tu vuoi veramente morire porco dio Oh Porca madonna Cazzato come un mostro A proposito Ma io ce l'ho stavo mettendo Un bastardo a schiudere Cos'è uscito? E' uscito un coglione Lascia stare Come fai a saperlo? E' perché l'ho fatto schiudere Ho messo un altro uovo Ah Elettrizzante E' uscito una Una E' uscito una Volpe di merda Di quelle rosse E' uscito E qui è uscito Dazzy Dazzy Dall'elettrico Io c'ho il tuo C'ho il tuo numero Moon Rides E ti do il Il coso del cazzo in culo E poi mi sa che ce l'ho io Ehm Incogliagli Il coso di Oh Porco dio Farlo vedere l'elettrico Se no entra gente a cazzo Mi devo Devo bestemmiare Per cacciarli E' era tuo Questo pal Trovato da Dazzy Tipo elettro No no ma tienilo Tienilo No te lo dico perché Posso condividere tutti No perché dicevi che era Il genietto di merda Sembra Tandorus Mignon No non è vero Non ce l'ho Non ce l'ho Mi sto spaccando da Tre giorni Quattro Da quando c'è L'accesso anticipato Almeno dieci ore in live Le ho fatte sempre E il frutto Dove l'hai messi l'etm? Ma Eccolo L'etm di merda Scusate perché l'ho Moon te l'ho mandato su Instagram Cioè l'unicorno Mi elettrifica i proiettili? E io che cazzo Ne so È una delle sue abilità E ragazzi Io sposto stoffo Vi metto l'MT qua dentro Ok Devo fare la centrale elettrica Se trovate palle elettrici Da catturare Catturate di sempre Palle elettrici Organo elettrico Se ce l'avete depositato Ce ne abbiamo qua Sì ne abbiamo qua dentro Ne abbiamo Quanti te ne servono? Eh no 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 Già farmato Arrivo Ma guarda che ne abbiamo un botto qua Mi sembra Dentro le ceste in casa Ne abbiamo 18 19 Ne mancavano un po' Qua c'è un organo elettrico Che palle che non si possa Mettere in ordine Tra Tra Eh tra tutte le casse insieme Eccolo qua Un altro Dove Io ne ho 7 In In bag 11 18 Sembra un glitch Del matrix La abbiamo da una parte La spawna Te li metto Dove c'è l'altro organo congelante Sono 18 Se ne hai due Puoi già farlo Vabbè questo è sui Con misto Milotic Però va bene Hai visto? Harry mi chiede a Harry Se gli posso giurare i dati Del DS Si si diglielo Aspetta allora Harry Aspetta che fanno in full screen Si fai in full screen Perché sennò ti Team Spi Aspetta Ah no non di team speak Del server Che li ho su Che li ho su team speak Comunque io Oh porco dio Ehi oh Porco dio Spara Harry te li mando Su telegram Te li mando su telegram Harry Che era il suo suono Eh io faccio lo scorgino con la bocca Quando non so cosa dire Questa cosa Eh ma mi vengono molto bene però Ma qua il culo va imbecille Te li ho mandati Oh dai Manda Manda doti dai Te li ho mandati Harry Li ho mandati anche a Moon Eh glielo ho mandati Titi Sì sì no Titi 2 intendevo Madonna ma a che ore sono Le 5 e mezza Sì Allora Devo fare Oh sono qua Sono qua E gli organi No ho già fatto Sei tutto te Allora dio Un generatore elettrico Un battupolo di pietro Avrò un'oretta Dio canne Sarai tutto il giorno A giocare a questa merda Ma è una cagata Porco Ma perché ti viene voglia Di giocare a questo gioco di merda Non lo capisco Sparo moschetto Ma in che senso È provato? Sì Spara lento Ma è forte Dove cazzo è? Proviamo a fare la roba della torta O non abbiamo il materiale per farlo poi? Ci giochi perché ti ricorda Metin Non penso Sto facendo la centrale elettrica Non so cosa serva Ma intanto la facciamo Oh Ascolta un attimo Eh Dove hai messo le mie 600 frecce? Sei pazzo? Io non le ho prese Non mi sa Ah godo Ma che fino ha fatto il falò che faceva l'ultimo? No godo godo Sono 350 frecce Ma poca Grazie Firerick Grazie Fryden Grazie ragazzi Bentornati Madonna Chi è che sta a fare sto casino? Eh sto Porco Dio Ma cos'è sono queste smartellate? Sono pazzi questi Ah mi hanno abbandonato Dai Ma porco Dio Sono andati a dormire Sti coglioni Vuoi che dormiamo? Vuoi che dormiamo? Dormiamo Possiamo dormire tutti Dormiamo subito Ormai finisco 20 secondi Ma vieni a dare una mano Porca Madonna Donna Vieni a smartellare Dai Sbartelliamo Hola Boh Tre coglioni Da 30 anni 30 anni a testa Ah vabbè Che è sta roba? Cosa serve? Elettricità massima Allora Read it Io metterei Lo facciamo un sonnellino prima Sì facciamo un sonnellino Così dopo Posso mettere prima? Fai quel cazzo di ripare A casa tua L'hai pagato tu un server Allora mettiamo Al posto di Codesta Ehm Qui va a dormire Griswold Però intanto Andiamo a dormire dai Sette domande In realtà una sola Mentre dormo Il ferro Ci pensano loro A A prenderlo? Che io ho messo il minerale? Lo trasformano loro? No Ok allora È nella cesta là Sono di fianco a te che dormo Sì siamo tutti dormendo Non è vero Ellen Sì Ellen Vabbè Siamo qui che dormiamo Te lo posso giurare Ragazzi mi sa che è entrato Moon o qualcun altro Capito? È finita Eh Come si può vedere La lista di giocatori Dentro al server? Siamo in sei Siamo in sei Dentro al server Come fai a verificarlo? Chi è entrato? Eh da Opzioni E numero di giocatori Sei No Se non dormono tutti Non dormiamo Dove cazzo? Tocca a fare intanto Altri letti ragazzi Ma cosa stai creando? Titi cos'è sta roba? È la cosa per creare nuove Possiamo creare le fusioni di pokemon Le fusioni? Le fusioni sì Metti due pokemon Differenti Ma stai mettendo il ranch? Sì 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 Ma serve E servirà anche ai fini di Ma chi è che ha fatto qua Delle casse di merda? Porco dio No Io non ho fatto Io non ho fatto Non è vero Un sacco di merda Non ho costruito Quali casse? Non ho costruito una singola cassa Quando sono qua Sono quelle interne? Tu gi' pazzo Tu gi' pazzo Schifo al cazzo Sì però è un videogioco Edoardo eh Ricordatelo Allora se volete fare una base di merda Vi fate la vostra E non mi cacate il cazzo Perché porco dio Questa qua l'ho costruita io Non sapevo Se dovete arricchirla con le stronzate Non la voglio Arricchirla con le stronzate Ma la torta La sorca Scusa Fatemi andare a prendere gli altri imbecini Un attimo Aspetta Capiamo Dove sono spawnati Apri mappa Siamo in Posso sparargli addosso Siamo in 99 Meno 5 e 15 Allora secondo me qua sotto c'è qualcuno Vedo qualcosa Dovete venire a piedi eh Coglioni Harry sai che bisognerà rilasciare Vabbè dici Chi se ne frega Ormai c'è Palward Va tutta puttana il resto del gioco Ci sta Aspetta Dove cazzo sono? Oh Scusa completa Ho trovato un surfente Ragazzi dove cazzo siete spawnati? Può vedere surfente? Eh forse Forse all'inizio solito Eh sono qua Non vedo nessuno Bellino surfente Palesemente virision misto suicum però Perché era infuocato Stavo sul fuoco Eh no sai perché non li vedi Perché non stanno nella gida Surfente è un cazzo di dinosauro Sembra uno di Monster Hunter Tra l'altro Ma non è acquatico? Acquatico si Sembra uno di Monster Hunter È un dinosauro di quel D'acqua E Veramente E ti fanno nuotare più velocemente in acqua Se lo cavalchi Sì 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 Tocca sbloccare la tecnologia eh Vabbè Puoi già sbloccarlo mi sa Non li vedo ragazzi No mi serve un punto Eh ma non li vedi perché non stanno nella gilda Questo lo mette Eh ho capito Ma no non li vedo proprio all'inizio Dove cazzo sono? Azzze Ok qua Carino Sella di surfente Per cavalcare i surfente Poi chi cazzo è entrato nel se Scusatemi fatemi vedere Minchia quindi è importante Sette giocatori Eh sono Siamo noi tre Dario Harry Tullis E Leo Eh no Jack Della Matrix Eh i tre della Matrix Sì E dove sono? Eh non ne ho idea Mi ha chiesto adesso le cose Quindi secondo me stanno arrivando Ma dove cazzo sono spawnati? Eh che cazzo ne so Poveracci Uno è un programmatore Uno è un coglione Adesso Oh regà Eh 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 responsabilità c'ho io Porta pazienza Ehi Ciao Dove cazzo sei Moon? Eh aspetta 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 Ah sta facendo il person Ah stai facendo il personaggio Ecco perché non li vediamo Li considera nel server Ma stanno ancora facendo il personaggio Allora va bene Allora va bene Ma quante ricette ci sono qua In cucina? Eh Toccherebbe fare la torta Oh cazzo eh Bellissimo Bellissimo Io mi sto spaccando Stava guardando Una voglia di gioca Latte uova Aiutami a cucinare Titti di merda Dai Eh cucinare dai Latte uova Dobbiamo fare Ma no Fammi dammi un po' di cose Che muoio di fame Poi sai cosa si dice Se muoio di fame Cazzo sei Cioè mi hai visto no? Sono magretto io Devo mangiare Aspetta Dove state Su quali sole Ti vado magari appunto Quello con 5 stelle 5-5 5-5 In basso a destra Più o meno Colline del vento Sì dovrebbe essere Colline del vento Sì Trano che non me l'hai fottuto Titti Non me l'aspettavo No non mi andava Non ti andava Non ti andava Vedi qua che se no Geli In zoccola Non ti andava Vai un'iscienza Aspetta aspetta Ci sta metto 6 anni Ma non dobbiamo dormire Vero? Eh No ma ora che arrivano Gli altri No zì Arriva Arriva il giorno Prima Arriva prima il giorno Andros Io ci 500 frecce In bag Ma non lo scopio Perché devo sparare Harry poverino Ah la porta L'abbiamo chiudendo Allora Da Spara Spara Moon Vai Da Sblocca 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 D'ingresso Sparla la statua Sblocca Sblocca E allora Vieni già Ah devo farlo Posso vedere Puoi spostarmi? No No Devi dalla Dalla torre Proprio dalla roccia Che ti prendi Due tre robe Dei vestiti Delle cazzate Ok Tutorial Al volo Sono tante 500 frecce Non sono abbastanza Probabilmente Vedi Vedi gli altri C'è Polly sopra Siamo qua Polly Dove Dove è? Dove è? Dove è? A sinistra In linea d'aria Tutto a sinistra Allora io vedo Titti Aspetta Vedo un po' Perché mi segna Due fortezze Devo No no È uguale Però quella sopra Eccolo Ecco Eccolo Vai Eccolo Eccolo Allora Devo buttare via Alla torcia Di merda Chi è che l'ha fatto qui Che occupa un botto di spazio Sta roba Che l'ha fatto L'ha fatto tutti Chi vuoi che l'abbia fatto Lo sai benissimo Chi l'ha fatto Allora Ma lo possiamo tranquillamente spostare Però hai visto quanto cazzo di spazio occupa Cioè obbligatore Troverà Eh no Quello è vero È l'unica zona vuota Ma non sai nemmeno cosa sta caricando Sarà caricando l'arma nucleare La roba del gigante Penso ci siano le armi nucleari Ma si è interessante dai Cioè oddio non è impossibile Ho capito Sono sempre le nuove pacce quelle che aggiungono queste cose Il primo fiume E beh Poli Non si è aggiornato No ma evidentemente no Vieni qua Che si è arrivato un po' di roba Cazzi Sborrate Qua dentro abbiamo lasciato vecchio Ci sono delle casse con vecchio equipaggiamento Se ti serve Ma vede finito che fai 300 frecce? No non ancora Teoricamente ce ne sono ancora in produzione Perché ne ho 500 Quindi 150 sono lì Però annulla pure Dovrebbero bastarmi per un paio di giorni 500 credo Penso di sì Penso proprio di sì Eh non ne sono sicura Sparo tanto io eh Penso raccoglie due E E Premo togliere Obiettivamente Un pinguino Vabbè allora non vuoi entrare Allora muore Coglione Metti lui a Che fa? Fa Doppio cadavere Ma non c'è un oggetto per risuscitare direttamente No non c'è Secondo me ci sarà qualche medicina per velocizzare Ed osserva ancora metallo Io ne ho già preso una centinaio Continuo Tu prendi quanto riesci a prendere? È perché pesa quella merda 50 Sì Ma poi gli altri della Matrix dove cazzo sono? Stanno arrivando Hanno visto le coordinate in live da me Quindi stanno arrivando Ma non posso andargli a prendere No ma arrivano loro Sanno giocare Stanno giocando 12 ore al giorno Quei coglioni Quindi penso sappiano muoversi Benissimo Per occupare meno spazio Dovresti sviluppare la base in altezza Vero Un altro shiny Ma che culo di merda che c'hai te Che caso hai trovato? La camera verde Sì Quella con la gobba Come è quella merda dentro la gabbia ragazzi? Guarda che lo shotto così Ma che cazzo? È buono È un Io piglio metallo Ma secondo voi il pvp lo metteranno mai? Hanno già annunciato che lo mettono Sì no hanno già annunciato No Ma che cazzo è successo? Hanno annunciato quello e gli scambi tra giocatori di palla Ma che cazzo è successo? Oh che lagga è inverosimilmente Ma figlio il pvp diventate abbastante raga Ma morto Bello un culo Ok Struggi Possibile No no mazzare lui però Fate il king Vai 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 king Ma solo uno ne hai preso ma fai cacare Mi metto fuori a fa' un attimo a livello alpg costo Fai vai vai Sì mia di merda Ma che cazzo fai? Ne ho ucciso un palo Vai salta Basta ma ho rotto il cazzo Faccio io Mi ricorda un po' Il video del new world È morto Grazie Snizzi Tu 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 ru 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 Quindi Edo Edo tu che sei esperto Resistenza Peso e Che cazzo si livella? Io sto facendo velocità di costruzione Io per quello me la farei palla Quindi Vaffanculo Io vado di peso Vado a farmare durissimo Io ho fatto pure la resistenza Io ho 650 di peso Schiacciate regale Ho fatto solo quello Praticamente Pimmee Schiacciate regale Pimmee Non c'è veramente un teleport comodo Al più vicino Waypoint Non c'è un cazzo Cominciano a far male Bisogna potenziare i palla ragazzi Ma devi ottimizzarle Più che altro Edo Sì sì no Cominciano a massacrarmeli Veramente Devi farli salire con le anime Vanno potenziati in quanto Hanno fatto un pokémon migliore di pokémon Sì Più o meno sì Precisamente Chi è che hanno intrappolato là? Non mi interessa Grazie polga Grazie Oh caldo ragazzi Teoricamente ma Madonna no Io ho paura che Io ho paura che Ho paura che Game Freak non gliene frega Comunque un cazzo di niente Di ste robe Secondo me Alla fine però Ha trovato Bowser Magari l'hanno fatto loro Zitti zitti Brot Magna magna È un esperimento Ma che cazzo Sto pokémon Ragazzi Ho trovato un Bowser Dig Dig Toys Raga quando livelli Bisogna solo andare a manetta A cliccare su tutto Per scoprire le cose Sì All'inizio sì Poi man mano che livelli Troverai roba più interessante O meno Perché man mano che trovi Di pal Puoi prendere la tecnologia Per avere dei bonus Su di loro No Ok Devo andarmi a fare Un'arma Sì Oppure Oppure C'hai come si chiama La possibilità di cavalcarne Alcuni Ehm E se ti piace L'idea Gli sblocchi La tecnologia relativa Allora Allora c'è anche un Fammi fare questo Velocemente Questo Dungeon Sono gli alpaca Edo che ti aumentano Il peso No I king No dai Ah solo i king Sono i king Paca Due coglioni Allora Magari gli alpaca Ti aumentano di 50 Per carità Ma allora si cazzo In giro col lupo Piuttosto Mbappé Non penso che Mbappé T'aumenti la La capacità Niente Impossibile prendere Questo pokemon Al 5 4 3 2 1 Via Assurdo Un pokemon Al 4 Con la pokeball Verde Ma Invece la vera domanda È Una zona da livellare Al 12 Circa Boh Cosa vuol dire Cioè Non vado a catturare Quelli al 5 Cattura tutto No guarda Sì ho capito Ma Sì ho capito Ma No Poli È quello che tu è prima Guarda che Anch'io continuo a catturare Anche i pokemon Al 4 Ad esempio Sì no le sto catturando Danno mille di punto esperienza Cresci in base al livello Cresci in base In base a quanti Nei catturati Bro Chi è sta gente No stanno invadendo No Ente per tutela Dei pal fedeli Ah sì 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 Ma che cazzo Non hai fatto niente È il sindacato È il sindacato È il sindacato dei pal Ma mi stanno sparando Ma non ho fatto un cazzo Eh ma perché hai catturato i pal Quindi sono arrabbiati Tipo il WWF Falco di più Ma serio È l'empa tipo Sì 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 premi shift E pompa È stato del tuo personaggio Allora No Ragazzi Non No Qua sto tornando indietro Non l'idea dai No Mi sto perdendo Dai Di qua ci sono stato Ci vuole adordito Ma di qua c'è un tesogo Ok progetto per abiti regioni calde 2x1 Ok Andiamo al canale Io sto dando fuoco All'ente della protezione dei pal Con un pal È bello Ste bastarde Voglio vedere io Difendi ancora Ti ho appena bruciato casa Ma sono arrivato da dove? Chi? Queste? Sono arrivato da qua Ah no Qui è un modo senza shift Regà perché c'ho la tassiera Rincoglionita Non va Non so per quello Cambia tasso Gioca con mouse e pad Io gioco il pad Marco 2 È molto comodo in realtà Eh no Ho visto tanti Gioca con il pad Sì sì Pure io gioco col pad Ma che fa? Ma che stupida volpe Si è messa a carona al 24 Ragazzi Dio baldracca Vabbè Sono morto probabilmente Vero? Va lurido Per sbarazzate di palla Basta che gli fai i lavori Depende che Sbarazzate per sbarazzare Vai a marca Troia Hai ragione Annega Nox Annega 1230 Punta esperienza Vedi Ah no Quee Quee torna indentro Ok Eccola la La cosa Dovrebbe essere questo Vediamo Se ho ragione Ok Quanto è pesante il gioco Da far girare Non lo so Non pesa tanto Non è che abbia Ti sa che Non era 20 giga Meno Mi sa Tipo 16 Forse Comunque non ho idea Buono Spirito artigano Ragazzi non trovo Il boss C'è un Harry Che vuole Entra in gita Io solo sto Arrivata Si 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 Se sa il server si Può entrare Di 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 Harry Se è Harry Con la Y Non è Harry Si 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 è con la Y Si 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 Harry Harry O di un ovetto Uovo oscuro Uovo oscuro Ragazzi non trovo il cazzo di boss come ieri Knight grazie per i tre Uovo oscuro Ho trovato uno con la cecchinata Uovo E come No non io Non io Ma so io Tiro una secca assurda Uovo Ah ok No no io no bro Che dove vado Sono livello 3 Sono un pezzente Comunque dicevo Per livellare tanto Dovete catturare i pokemon Ma non tanto Si catturare i pal Non a caso Che sei fissato con sta roba dei pokemon Non lo so Mi viene 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 Si è normale Che uno si sbagli Cristo dio Sono identici Attenzione Comunque Comunque Dovete catturarne Dieci di ogni pokemon Di ogni pal Specie Comunque la parola che cerchi È specie Comunque Dieci Dieci Della Della volpe Ok Ti darà un boost Di esperienza No non ci sa Ok Bro ma qua c'è la regina ape Che figata la regina Eh le regina di tutte Ci stanno Io te sto ascoltando Eh di te sto ascoltando Eh no è quello Cioè devi prendere Dieci Dieci volte uno Dieci volte un altro Ok E ti aumenta proprio L'esperienza che prendi Magari all'inizio ti danno Cento di esperienza I pokemon Una volta che comprati Una serie da dieci Ogni pokemon Ti da duecento Poi trecento Quattrocento E così via È il modo migliore Per livellare Dici E io guarda Solo da oggi pomeriggio Ho fatto fino al ventitré Eh si Ha farmato di brutto Il personaggio oggi Buono per il latte Buono per il latte Dai Il latte ragazzi Lattatemi 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 Guarda Lempa di merda Ciao Io mi faccio Un'altra base qua Quasi quasi Io vengo a mettere giù Una bella base Lì ragazzi Vengo a mettere giù Un altro centinaio Di È perfetta Non so se L'environment caldo Potrebbe rompere I coglioni E i pall Però Che l'armatura calda Mi sembra Con la resistenza Sul caldo Sì però Dipende di pall Se sentono caldo Eh questo C'è caldo Quindi non è giusto Sentono caldo Anche i pall Non lo so Eh chiedo Magari muoiono di caldo Non è una buona idea Allora a quel punto Non penso Muoiono di caldo Gesù Cristo Che cazzo è questo Buono Muoiono di caldo Bellissimo Boh Se la faccio là Non c'è un cazzo Di niente Vesh Vediamo Se la faccio lì Su quello spiazzo lì Io leggevo Tipo che poi Non hanno fatto Con l'intelligenza Artificiale Alcuni sì Ho letto che hanno Fatto il concept Con l'IA Ma che cazzo dite Giuro giuro No sul serio Hanno concepito Un IA Alcuni Per questo Secondo me C'è tanta somiglianza Che prende modelli Già esistenti Eh può essere Però a me Ad esempio Uno che piace tantissimo È l'elefantino E d'acqua Quello se me è bellissimo Ma è sempre lo stesso Ah protezione danneggiata Deserto del crepuscolo Ma posso chiedere Chi sta prendendo Tutto il minerale Metallico Da sta chest Sono loro Che lo trasformano In gold Ma sono loro Che lo trasformano In lingotti No Sono io Che l'ho messo a fare Ah sei tu Boh perché Se no io ne sto facendo A quintali E sparisce sempre Eh ma quello Bisogna raffinarlo Eh Poli Non è No no ok Non serve un cazzo No no ok È che spariva se no Mi domandavo dove cazzo Andava a finire Se uccidi il venditore Che ti dà Boh Non lo voglio uccidere Perché devo ucciderlo Ah dei soldi Io l'ho ucciso Solo soldi Anche io l'ho ucciso Figurati se non ho provato Nel mio mondo L'avevo ucciso E come fai a non provare Certo che lui provi a ammazzarlo Bisaguer No 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 Non c'erbo livello 9 Mi si stava a maniao Un c'erbo di livello 9 Infatti Ma possibile che qua Non ci sia una cazzo Di teletrasportazione Ah è là Teletrasportazione Eh sì Una teletrasportazione Eh beh Piccola teletrasporting Volevo uccidere Step by step And I'm moving in To come to the club Loaning E obiettivamente Una bella parola Teletrasportazione Che ci giocavo tempo fa Temtem si chiamava Temtem Esatto Sì Schifo Quella era una copiatura Scopiazzata Quello infatti L'esempio che faccio sempre Io quando in stigione Dicono che questo è copiato No non è copiato Cioè è un survival Con dei mostriciattoli Che ti aiutano Questa è la copia Di Ark Survival Esatto Questa è la copia Di Ark Survival No di pokemon Sì esatto Poi magari le creaturine Specifiche possono sembrare Sì la sfera Che le catturi Cazzi nel culo E tutte queste cose qua Ti posso dire Ok hai ragione Quanto è bello La balestra Bellissimo Troppo bello Troppo bello La balestra è figa o La balestra One shotta Però ne spari Più lentamente Sì Spari molto lento È che devi caricare Il colpo Perché è una singola freccia Fa un culo Boh Io vado a prendere Altro ferro A me piace che c'è La roba che dà in giro Nelle roccette incastrate Un uomo oscuro Quindi Elisabeth Mi spacca il culo E vado di qua E catturo un po' di tutto Grazie Paul guys Cattura cinque lampo Per un po' di esperienza Preparati accuratamente Affronta il boss Della torre Tra l'altro Aspetta Ma il boss della torre A che livello è Tu che l'avrai sicuramente fatto 12 12 Sì Ah Dio una merda Ma si adatta al tuo livello Mi sa sai Ah easy Allora Non si adatta Non si adatta Io l'ho fatto adesso Stavo al 20 qualcosa E mi rimasto sempre Ma se tu usare solo un pallo alla volta Si va Vuoi lo dare o fuori nell'acqua Alta Sì 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 No 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 Sì però ti scade la Ti scade la stamina Occhio la stamina Puoi notare Ma non puoi farti Viventi Che cazzo è sta roba Sì lo so raga Che c'ho i morti E lo so Appena Lo trovatore i Quasa Ma che è Appena posso Si stendo Una statua di Cos'è No chi è Palkia C'è una mega statua Proviamo E procedura Ma qua c'è un teletrasporto No è uguale per tutti Wow Come? Il mondo Ok Quanto sei C'è già tutto Sai tu No L'abbiamo scoperto Si ride stai No no Ho visto tutte le guide finale Io mi sa che comincia un'altra fase Ve lo dico tra poco Trovo un posto E sborro lox Ma è Electivire il boss Di merda Si Electivire letteralmente Siamo dietro Beh livello 23 È fattibile Vediamo un po' Oh che bello Oh che bello Si ho 603 frecci ragazzi Purtroppo È il numero Che mi serve Aspetta che ho paura Di che lo sciotti Non l'hai neanche preso L'ha segnato un palmas Che ci faccio con l'assaggio Di lì Le usi Gli devi dare delle anime Che troverai in giro E lui ti potenzia E livelli Ok Ma le trovi Le vedi Sono verdi Sono tipo degli smeraldi Si vedono molto bene Ma il latte Come si faceva Ah con la mucca Con la mucca Aspetta arrivo Ma ce l'hai? Ma vedi tu vuoi scegli Pokémon sotto Sì Aiuto A posto Edo Sì? No mi sa Sto prendendo un drago Incredibile ragazzi Porco dio Cambia questo Cioè Sono senza palle Porco dio Ho catturato Quai turn Ho catturato il drago Ho catturato il dragon Ragazzi Anello di protezione Dei draghi E cazzo è Dark Souls Bellissimo Che hit Questo Che hit Ha massacrato Anche l'altro King Paka Ma Olè No ragazzi Devo trovare Un posto Per fare Una bella base Qua Mi piace Quindi è importante Virare alla testa Porco dio Un'altra basetta Quella cosa che li poi mette a fa Fate farmare e a costruire Cioè Ti è una salvazza Sì Che lo fanno loro Sì Ma guarda che Il problema è Uno uno solo Io l'ho lasciato Cioè Il server resta on E loro farmano Tutta la notte Quando hanno un giochi Continuano Stamattina avevano 999 risorse di tutto Sono entrato stamattina Era pieno Bravi ragazzi Andiamo a vedere questo Il gioco si chiama Parleworld È un cazzo Ah l'ha scritto in prof Ok Mi permettevi Vedete Di voi questo qua Io vado vicino qua E ogni pal Ha un'abilità Se vuoi puoi vedere Cosa fa meglio lui Vediamo un po' C'è tipo C'è quello che irriga meglio C'è quello che fa meglio Le azioni C'è quello che motiva Gli altri Devi premere Dei dettagli Per ogni pal Sì sì C'è anche il Pokedex Dal menù Allora poi è fatto Normale Ok Questa è un fottuto Coso normale Finalmente Boom Headshot Ah è easy Questo qua è al 13 Ragazzi È piuttosto facile In realtà Come boss Però figo Vedi Perda ma lo potevo catturare Cazzo Potevo catturare E le activire No non puoi Non puoi Ah ok No Perché sennò Mi mangiavo le maniche Non potevo lui No perché Della tipa Ah è vero Che c'è la tipa Sì Cioè se lo rincontri dopo Sì se lo rincontri dopo Certo Un altro Cioè libero Come pokemon Come pal Sì L'ho preso Infatti sta caricando i cazzi Scusami eh Ma la tecnologia antica Le statistiche Che potenziali voi regà Ah io Io Resistenza Peso Sì Resistenza e peso Sì Una bomba Soprattutto resistenza Ti aumenta la La quantità di stamina Rallenta Quanto tempo ci metti A spenderla Lui è velocissimo a volare Ma non Non posso creare una sella Per lui Mi sa Mi sa che mi fa solo planare Com'è la pistola Con il rampino Non ha abbastanza spazio Eh La merda Non ha abbastanza spazio No però Non ha una grande cittata Non li metti i frammenti Nelle casse Che non Non Eh Mettili dove vuoi Un po' Oh No Ops Vediamo se l'ho salvato L'ho salvato Codo Ma metti la bisstecca Ma i pali non sono condivisi Hai ragione Gian Giovanni Qualcuno ha preso fuoco Deposito un po' Di stronzoli Molto bene Via Deposito un po' Di stronzoli Sì Questa petta regina No è fortissima Lei è Elisabee Esatto L'han chiamata Come la regina Elisabetta Elisabee Che stronzata Aspetta Ci sai il numero di Di palla Quanti so più o meno 111 111 sì Sai quanti ne mettono Mora Ma ne faranno un botto Sì Vanno a generazioni Sicuro Ah beh sì Ma quello è chiaro Allora Io non ho Lutato un cazzo Quindi posso andare a prendere Tranquillamente Altro ferro Prosto senza il cinghiale 5 di farina di grano Ma cos'è Zap Cannon Quella mossa là Ma quindi devo aspettare Veramente 10 minuti Perché ritorno in vita Sì Vabbè Vediamo l'uovo scuro Che cazzo è uscito 10 minuti effettivi Di gioco Di vita Che è che ha Estrapolato l'uovo scuro Io prima Cosa c'era dentro Miau Ah Invasione Fangir dell'amore Ragazzi no Dobbiamo catturare Cosa Dobbiamo catturare Dobbiamo catturare Porco dio Chi Cosa stai dicendo Che cos'è Fangir dell'amore Incontenibile Stendimento della base Sì è vero Dove andre Sono fortissime Sono fortissime Allora Sono qua Sono qua Sono qua Tranquillo Tranquillo E se io cambio Stanno arrivando Alla tua base Mi sa Titti Stanno arrivando alla tua base Titti Sì sì Alla tua No Titti 2 Eh no Ok ma là non ce l'ho la campana Eh dai dai Cattura Cattura Vai Danneggia E poi cattura No Ma che cazzo Li ha sciottato No Dio Porco Togliete il dinosom Chi è che ce l'ha Toglietelo Ah io non ce l'ho Io ce l'ho Dove dentro Eh l'ho appena Ti avuto fuori No 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 Eh niente Eccoci qui No ragazzi Ragazzi porco dio Piccola pulizia Ma porco dio Una campana Distrutti C'è proprio Che è successo Eh sono arrivati Si hanno mandato a puttane qui Allora ogni tanto Arrivano ad attaccare la base Non ce l'ho manco la campana Ma sei uno stupido pezzo di me L'ho sbloccata adesso la campana L'ho fatta io Grazie al cazzo Godo No no ma io l'ho sbloccata dalla tecnologia E ho capito Ma non mi è mai successa questa cosa Dio porco ragazzi Ma d'ho trollato Quattro Ce n'erano quattro di puttane Però a mezzo volta L'ho attaccato già loro eh Quattro puttane Chi è che sta facendo il banè ragazzi Chi è che ha fatto il bar ragazzi Eh quelle erano Erano comode Piccola dove non ce l'avevo io Quindi mi andava comode Ma questo ha minatore tre Puttana Eva Più per quello Che per altro però Chi è che ha messo Cremis Chi è che ha messo Cremis È finita Il tutorial è terminato Non hai altro da fare Sì sì basta Adesso sei libero Free Ma questo drago? Che cazzo è questo? Era Eshiram Guarda che bello Cos'è quella bestia lì? E cos'è Bowser qui? No vabbè gira anche su se stesso Ma no ma è farina di grano No ma zi ti rendi conto che gira su se stesso? Cioè boh Ma non hanno paura di un cazzo Guarda qua ci sta minando Qua c'è ferro Edo Edo qua c'è ferro Rena di grano o grano? Ma mi spieghi che cazzo Di abilità ha lui? È un Reshiram misto a boh Ma se hai la mucca? Lavoro manuale 1 Trasporto 3 Attività minerale 2 Raccolta 2 Boh Dai tornate in vita Ho la mucca ma se? Ho la mucca si Eh facciamo il latte Perché io sto Vado a prendere le uova E poi possiamo fare la torta E allora Bello sto drago Oh no Ditti 2 è un cazzo Ho fatto Ma zi comunque Dio cane cosa cazzo fai? Maestro Ugue ti sta insultando Fanno cacare quelli che Che l'ho fatto Ci abbiamo qua eh Ragazzi ma sono già andati tutti a dormire? Eh sì Pelle dure si Dobbiamo a dormire Ma dove cazzo è l'imbecille? Scusate Eh si andrà a curare mi auguro no? Ma ci abbiamo dei letti? Gli occhi iniettati di sangue non promette molto bene Forse non c'è cibo nelle mangiatoie? Ma è strano? No ci sta No ce n'è ce n'è C'ha 2000 bacche direi che ce n'è Sì No no si è rincastrata da qualche parte Ah manca il cuoio Ma ragazzi cosa state esattamente facendo? Con chi stai parlando? Che che ha fatto sta casa? Dio cazzo Non lo so Forse è la Matrix Si è fatta la casetta Eh sì loro letti Vabbè ci sta Se no come facciamo dormire? Ha bisogno di dormire per forza le notte? Eh no non per forza No Se dormiamo è meglio perché passa la notte Volete che dormiamo al proposito? Eh sì Ok allora Matrix sta dormendo Eh ci serve un letto per Moon Serve un letto per Moon Arriva arrivo arrivo Ehi 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 Dove sono i deficienti? Dove cazzo sono? Qua non ci stanno eh Non ci sono Eh no ma arrivano eh E come si arrivano in merda? Che bello è sto ragone oh Sì io non so È l'ho appena catturato ragazzi Sì ma sta minando Poverino Cioè è un enorme drago Che si vede a minare Eh ma non vedo Spera ma È shiny È shiny questo coso No no è un boss È un boss Ragazzi ma dove sono? L'ho preso in un dungeon Ente della tutela dei coglioni Fascia di battaglia Ti vado l'abilità compagno Poi fai ruotare D'alta velocità Per aumentare L'efficienza Della sua trivella Il cazzo è che ha usato Il ma Il gano Vedi che non può volare questo Edo Ma non è che tu hai fatto Una base E loro stanno attaccando quella Io non ho fatto Nessuna base Da nessun'altra parte Ancora no Ok Ah no eccoli qua sopra Stanno arrivando dalla montagna 100 metri Si stanno buttando Qua sopra da me Ah sì via Qua vedete perché servono le frecce Come ho disattivato la difesa Che senso livello 36 No ma che sei pazzo No no non i cosi Ma da dove arrivano Scusate ragazzi Qua 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 Eccoli là in cima Stanno arrivando gli scemi Paolo levati dei coglioni però Che è che ha il cicchipi di gigante Scusate No non è manco il gigante Questo è normale Ah no è grande Quel cicchipi Stanno arrivando Ah io vi consiglio di risparmiare frecce Perché non Arrivano loro Va bene Fai 5 ragazzi Cioè forse conviene risparmiare No Vediamo io quanto li faccio Zero Ah facciamo pure l'attacco 13 Fantastico 13 Due Eh aspettate che arrivino giù E eliminiamo E poi si va a fare un sonnellino Ma Mentre aspettiamo che scendano Facciamo il latte Che cazzo è stato Chi è che ha tirato uno Sborro Fax Vabbè Gli hai obliterati Cioè Eh oh Rompono il cazzo Ma che sta facendo la mia scimmietta Aspetto che si Ma sono buggato Perché questo posto è perfetto Perché le invasioni Oh Non arrivano proprio O arrivano così buggate dall'alto O arrivano così buggate dall'alto E non riescono a scendere Ma guardali dove stanno andando Ma che giro stanno facendo Ma che cazzo fa Ma cos'è quella pietra la verde Ah è una statua È un'anima della statua Eh sì sì Quella è utile Opa là Ah non ho spazio di commentario di nuovo 100 euro 100 euro Ma che giro stanno facendo adesso Stanno andando dal dietro Ranch tipo Grazie Joe Grazie capo Troppo così disattiva Ciao Joe Troppo così disattiva E appena si svegliano Proviamo a lanciare il drago A sollevare il drago Ma non penso ti lasci Ok Hai rispinto i nemici Andiamo al letto Arrivo Allora eh Devo capire che cazzo ho Che mi sono pieno di roba Lose my mind Lose my mind No 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 I proiettili Ma chi è che spunta fuoco? Ah mi sta aiutando Sì sì Ti aiuta Cazzo Chiedi Edo Se fai i forzieri con il metallo In teoria Chiedi Edo Se fai i forzieri Mi chiede Henry Che i forzieri metallici Hanno più spazio Lo so Però Fai le casse Ne fai sette E non sprechi i lingotti Che nessuno sta farmando Io sto farmando Coglione Sono io che sto andando a fare metallo Sempre Ma dormiamo Prima di continuare a fare qualsiasi cosa? Sì Appena ci siete Io sono qui Nel letto Ce l'abbiamo Tutti No mi sa Moon ti manca un letto Vero? Sì Qua dentro È in una delle due case Spero che ce ne sia Insomma Poi sono tre letti Ma io ho messo a dormire C'è una fattoria qua Allora spera Se Moon sta dormendo Ne serve Edo Ne ho costruito di un altro A posto Allora Vabbè dai Incontriamo Allora Si va a lettanti Bus ragazzi Ok Mi sa che dovremmo Adesso dovremmo Siamo tanti Dobbiamo dividerci Io vado a farmare Diventano spazi stretti Perché c'è 476 di legna per terra Cosa è successo? Eh no Ehi le mie frecce Chi è che ha smesso di produrre frecce? Ma che sei pazzo? Mi sa che qualcuno ha smesso le frecce Ma raga ma c'ho 4000 kg No 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 Beh non posso Non posso muovermi Non puoi muoverti? Ho 5000 kg addosso Ma chi è che c'ha 296 di palladium? Devi mollare a terra Ragazzi devi mollare a terra Possiamo andare a dormire? Sì andiamo a dormire Sistemiamo dopo Dai giorno Non ha senso Ciao Ma come? Ma è vero È già giorno Ma porca puttana Non c'è di parlare Ragazzi ma chi è che sta stoccando la pietra a massi così? Voglio fare le uova Ecco c'è qualcuno lì Ma c'è How can I fallin? How can I fallin? Scusami al 27 Io sblocco la fabbrica di sborrate calde Non esiste la fabbrica di sborrate calde Edo Sì esiste Non esiste Non è vero Non è vero Ragazzi smettetela Non esiste No è uscita la patch nozza Esce domani la patch La fabbrica di sborrate calde non è fisicamente possibile Titi Perché non è possibile? È americano Non credo usino il termine sborrata Sono italiani in verità i sviluppatori Ma in verità questo è vero è una cosa Stiamo giocando con i creatori Sono dentro al server Ah addirittura I creatori mi hanno fatto una mail tutta di Abbiamo il cazzo duro grazie per essere interessato al gioco Su serio? Sì sì te lo giuro Ma è tutto il genere Mail giapponese Il giapponese Sì 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 Ah ma raga ma chi è che sta portando in giro Legna a colpi da 500 Ma siete passi? Poli tu sarei con la massignale per fare il box per la nuova base Sai che hai ragione Poli sei a casa? Sì Però dobbiamo Voglio guardare nella cucina Ragazzi chi è che ha rotto qualcosa? Mi è rotta la luce Che vuol dire è rotta la luce? Cosa vuol dire? Mi è rotta la luce Ebbè è stato rotto evidentemente Perché hai tolto il ring? Ma perché non sono su TS? E non c'avranno il Discord Eh passaglielo T'ho mandato la foto ieri no? Hai ragione Eh voglio accoppiare Ma mi servono le uova Le uova e il latte Allora Le uova Ma che casino ragazzi Ragazzi mi aiutate a stoccare Sta merda di schifo Questo possiamo vedere dov'è? No Eh ridami un attimo Non sappiamo dov'è Ma come avete fatto a portare così tanto materiale? No Ma sicuramente no Poli Sicuramente Non so cosa sia stato interrotto Ma sicuramente non è stato portato È semplicemente che se tu avvii un lavoro Ah non li ho messi E poi lo annulli Il materiale di quel lavoro Viene mollato a terra Sì ho capito Ma zì erano Novecento blocchi di legna Eh Ma non serve Non serve Il pane Io 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 Poi l'altro con l'aiuto del lanciafiamme Degli uccelli Il pane a marmellata Brustolito Il latte Lo state stoccando Da qualche parte Il latte mi serve Se tu ce l'hai Facciamo subito la torta No c'è la mozzarella Che sta caccando latte Aspetta che lo metto nel rifrigerazione Ah ok Sta cagando latte Ah ho quattro latte nella rifrigerazione Mi sa che ne servono pochi di più Io sto portando le uova Ho già fatto il grano E ci facciamo subito la torta E possiamo Vedere cosa succede Accoppiando due pall Questo qua sta minando All'impazzata da quanto? Sì ormai Ho fatto l'unione Cazzo prendi due tartarughe Ti fanno 40.000 di pietra In un secondo Oh là E abbiamo stoccato 100 miliardi di robe Dentro sta chest Allora Rimettimeli dentro Al posto suo Uno Io mi faccio un po' di sfere Poché Avete Siete riusciti a sistemare Allora niente Sì No Troppo legno Porco dio Ho sbagliato Eh no ho sbagliato Quanto Io voglio fare Una cinquantina di pokeball Adesso Se posso Sì sì Puoi Ma conviene farle Conviene Nel pan No nel Sì lo so che conviene Ah no Quella bistecca di mozzarella Forse è più veloce Lì ma boh Quanto pensano le pokeball Qual è il dragon nuovo Qual è il dragon nuovo Non moltissimissimo Non moltissimissimo Non vuol dire né molto Né poco Né moltissimo Scusa Ma se ti ho rubato Le salsicce qua Sì si possono No porco dio TT2 Porco dio Te le lascio TT2 è del merda Te le lascio Volevo interagire Te lo lasciate Sì è multiplayer Oppure single player Ragazzi sì Mi servono Mamma mia Ragazzi 3 di latte 3 di latte Ce l'hai già Nel frigo Ce l'hai nel frigo Altri 3 Metti un'altra vacca Allora Cosa devo dirti Vai Dove vai Fottuto pollo Dai la metto io Dai Mettiamo un'altra vacca Niente Allora Al posto di Al posto di Chi mettiamo L'altra vacca Dai Dai Mi sa che ne manca Uno di latte adesso Quindi in verità Possiamo Vai due vacche Via Eh Tata 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 Quello non serve Guarda quanto Sono bagate Vabbè L'importante Che cacchino Chi è Gli exp Un gruppo di gay Eeeh 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 Attenzione XVII Zà Tu non hai idea Di che cazzo Abbiamo fatto E' incredibile E' incredibile Visto qua E' stato Quando finiscono i toti Poi avete già finito il gioco Dai GG Ma hai proprio Il raffreddore Mettono il pwp No no Ah sembrava Quante ne ho di ball Ma Enrico Ok no Allora Perché dovrei Che cosa vuol dire Cosa significa lancia le ball Sul crafting Allora metti qua Quando posso gioco Mi venga a rubare Tutta la roba Che avete creato Eeeh Perfettivamente Tanta All'infinito Quindi Eh lo so Infatti avete fatto Un lavoro Infatti è una svolta Regà eh Eccolo in latte Come faccio Vabbè Ho sempre a prenderti meriti Ho capito Porco Dio Porco Dio Ma che è 99999 Di legno Che caccio è Bowser qua che fa la trotta No ma che 999 Ragazzi Ragazzi Datemi una mano a fare la torta Ci si mettono mille anni Ah Basta fare così dici Mi prego Guardate quanto ci vuole Ti lancio La poco bollizzi To No no Togli questa puttana Perché 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 abbiamo il Pecca Perché ha due di fuoco È molto più forte Credo Però dobbiamo invitare Qualcuno che giochi la notte Perché voi siete troppo Ma ti rendi conto Che siamo In quattro a cucinare una torta Ragazzi Cioè con tutto il rispetto Andatevi un affanculo No Poli Guarda che Stai per fare le fusioni Mo le proviamo Ah Eh Sei un pirla Poli E per questo Chiama Chiama il tizio di fuoco Dove è andato Ando a mangiare A fame Lascialo mangiare Allora intanto fai così Come se Si assegnano i pokemon Si c'ho I pal Là Che fanno qualcosa Che fanno qualcosa Cioè che testo Ma non si capisce Ma non si capisce più Un cazzo In questa live Ma perché poi c'è Questa cucina qua Che è fortissimo Il suono Vi saluto Ciao 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 Comunque per la notte Per la notte Da adesso in poi Io quando Mi metto lì Vado avanti io Fille due Ci sono io Ma della matrix Vado avanti Fille cinque di mattina È easy Da avere problemi Per le fusioni Ci vogliono Palle specifici Ah Ah Eh no Brutto allora Io pensavo che Che si potesse fare Con due palle A caso Non mi sembra una torta Ma si è una torta Il pinguino Ad esempio Si Si Quindi io immagino Che il pinguino Possa accoppiarsi Io non gli ho detto Di farlo È andato da solo Ah Ce l'hai femmina? Come fai a sapere Se è maschio o femmina? Eh c'è il simbolino Come su C'è il simbolo Ah si Non ce l'ha fatto caso Come su Palmon Ah Palmon Grazie dadi Grazie zio Grazie ragazzi Bacione E che cazzo l'ha visto? Verifico subito Arrivo eh Perché Perché c'è una mucca Che va a fuoco? Chi è che ha fatto Il fuoco lì? Ma che cazzo fatti? Però si è glitchato Si è glitchato Ma se Cioè Allora Se volete fare Dio quel cane Allora Vado a uccidere piccolo Vado a uccidere piccolo Lapras Arrivo Uccido piccolo Lapras Arrivo Uccido piccolo Lapras A sto punto Facciamo un piccolo silo Fai uccidere piccolo Lapras Dai Piccolo silo Eccolo là Lapras Dai Vieni qua Grazie Bolli Per i cento Centomila euro? Non penso proprio Non penso proprio Ci diamo piccolo Lapras Non penso che lo farò Lo sai Ma Lapras in acqua È forte? Mi sa che mi spacco il culo All fusion Pulse Ma non funziona Quel Oh Edo Tu che lo sai Ma se hai zero stamina in acqua Mi sa che ti fa Muori Muori a fuoco Cioè a mano a mano Ti leva la vita Però muori Finisci la stamina E poi ti consuma la vita E poi non puoi neanche saltare Quindi muori Uuuuh Eccolo azzurbole Sto lo voglio cacciare Ah è questo Facciamo la fontana Per l'irrigazione E' una combinazione particolare E sapete quale? Porca madonna Me l'ha shottato Porco di me È fortissimo azzurbole Di metallo 100 Sono morto Muoio al 100% Ma qua non sta ancora magna Arsox Non voglio fare il Ma non ne ho uno Con il livello 3 Siamo sicuri? Mi pareva di sì Lui Che merda porco due Ti fanno farmare A sé? Dimmi Lo possiamo fare Possiamo fare una fusione L'ho cercata Cosa puoi fare? Abbiamo King Paka vero? Sì Ok Mettiamo King Paka Dentro Come dentro? Che sozione? Mettiamo King Paka lì Insieme a un Coso di ghiaccio No porco di io Allora Questo lo prendo King Paka Dobbiamo vedere se è maschio o femmina Così vediamo quale pinguino tenere Cioè tu King Paka con il pinguino Come fanno a scopare? Non importa Allora La torta Mettiamola come ultima cosa Prima mettiamo la combinazione Di Pokémon Allora Di palla 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 Che dopo ti denunciano TT2 Palla 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 Allora c'ho un King Paka maschio E un altro maschio No 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 Faffanculo A un pinguino femmina serve? Sì si stanno già fuori Sono entrambi Girati No 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 Voglio vedere Voglio vedere i pinguini Con Staccanoismo 3 Cazzo Vediamo un po' Antigraccio Belli duro Antisimismico Aniboprose Madochismo Può essere che gli erediti qualcosa Eh sì che gli ereditano Vais Sicuro gli ereditano Ah Volevi vedere che fanno sesso? Aspetta Metti così Eccolo qua Faccio vedere che fanno sesso dai Un pokemon full ghiaccio non ce l'abbiamo vero? Sì Ah sì Allora al posto del pinguino mettiamo il full ghiaccio Ok Fammi vedere il sesso Ma che bello King Paka Ok Aspetta Io troppo la torta C'è un pokemon full ghiaccio Full ghiaccio Qualsiasi Qualsiasi Pokemon palla volevi dire Palla Palla Certo Parco dio Vedi che freddo ti sei cascato E me lo dici E mi ripeto Sweepa femmina Via Va bene No vado subito No l'ha fatto No il pinguino ci sta ancora Erano due pinguini Ci sta ancora nascosto No l'ho buttato No l'ho buttato No l'ho buttato Oh butto in domanda E vedi che sta girando L'uovo Coglione vai dentro Ma perché c'è il pinguino dietro il pieno Ma dov'è dietro il pieno Ah l'hai levato dal menù dici Buttalo dentro Buttalo dentro È vero Sembra esserci amore tra i due Non c'è abbastanza torta Non c'è abbastanza torta Adesso arrivo con la torta Fai sta cazzo di torta Eh ho capito Venite qua Venite qua E sono morto E voglio vedere scopare i pall Ah ora vuoi vedere la coppia Prutto porto Voglio fare la coppia pillamento Dai Non c'è abbastanza torta Eccola vai porta torta Porta torta la palla Adesso che dobbiamo metterla qua dentro C'è torta? Prova a vedere Sì ma non sa Sale pianissimo Sì sta salendo Ma piano 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 Eh va bene è giusto Dici devono fare sesso Ci mettono una noretta No noretta no Allora e questo qua Non vi dico come si chiama Però è una È una fusione Quindi possiamo fonderli così I pall Sì però aspetta Cioè praticamente il concetto qual è? Che ci sono Ci sta una lista di Allora Tre Sei Otto No raga ma che insenso Venti quattro Venti quattro Venti quattro Fusione di Maiali Si fanno con un pokemon Specifico E poi un tipo di pokemon Ah ok non un altro Proprio il tipo No 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 è tipo Kingpaka con il ghiaccio fa questo Ma non può accoppiarsi anche col fuoco per dire È solo col ghiaccio E fanno una versione particolare di kingpaka in questo caso Anche visicamente è diverso Anche visicamente dovrebbe essere diverso Infatti sono curioso di questa cosa Ovviamente lui intendeva tutte le volte che ha detto pokemon intendeva palla eh Palla palla ho sempre detto palla Mi sembra che tu abbia detto pokemon Ragazzi abbiamo 100% di elettricità Non so cosa serva Ma infatti non è chiaro nessuno Però era importante averlo probabilmente Se prima sembrava la priorità Eh ma tu sei quello più avanti Quindi Adesso infatti Mi sa che serve per produrre le puttane in serie Aspetta Le puttane in serie Sì sì è proprio così È proprio Aspetta che vado a catturare Ma Poli sta andando in mare a catturare Eh certo Milotic Mamma mia Scusami Ma Ma cosa dovrei fare scusa Creature del villaggio Vorrei chiederti cosa ne pensi di questa costruzione fatta da Poli Non ho costruito niente io Che dici Questa cosa Poli l'hai fatta prima Non ho fatto Non ho costruito una singola Ragazzi Se volete sono pure le paperelle Guarda Ma niente Vabbè è stato Titti al 100% Ragazzi Cosa ho incostruito Guarda guarda qua Guarda qua che cosa ha fatto Non ho costruito niente io Titti 2 Non sono stato io No no Non è stato lui Non è stato lui Un lingotto avete speso per questa puttana Ti rendi conto? Ti rendi conto? È per incastrare me poi Non sei un coglione Titti Vabbè però sei spazio Ma sei il 24 Titti Puttana Eva Eh 23 23 Aspetta che vado a prendere Allora Eh ma scatturando i Pokémon Eh io guarda Ne ho fatti Sì sì Sono catturando Sì Sono catturando Non ho fatto quasi altro Sì lo so Cioè io al Ti stai dicendo che non hai fermato Ti metti il super uovo oscuro Intanto No no Ma non l'ho messo? Aspetta non l'ho messo Aspetta Ma quanto scappano Si ballo? Eh scappano Belli dip Vi togliete dal cazzo Un attimo Che non riesco a Spostamento rapido Ok perfetto Allora Chi è che gli è saltato Porco Milotic è incazzato Come un mostro Bello Sì Vabbè mi ha shottato Non è possibile Mi shotta Quella merda di Milotic Mi shotta Nel 17 Io so il 13 Raga mi shotta Non mi apre il culo Ecco dio E dovrei farla tutta di roll Oli fai quello che ti ho detto Fidati Ci metti niente a salire di livello Sì ma volevo catturarlo poi Volevo catturarmi Milotic Capito? Certo ma poi lo catturi però Se non hai il livello per affrontarlo Eh ho capito Adesso lo so Non ti conviene Non ti conviene Non ti conviene Non ti conviene Andro per steps Andro per steps Ho catturato un Pils Grazie Infi Grazie Rufus Grazie Padre Pio Si chiama così Adesso andiamo nel deserto Dai Facci vedere sto scobano Non so cosa voglio dire Scobano Sesso 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 Uovo Uovo Ah beh viene fuori un uovo Vediamo Eh si Viene fuori un uovo vecchio Super un uovo gelido Vedi? Eh si Ma fammelo vedere Ah eccolo là Beh ci metterà un po' A schiudersi immagino Ah è perché possiamo fargli fare Ancora altri cosi Maiali di merda Ma stanno giucciando Fai torta dai No l'ho messo dentro Eh lo so raga Vediamo sesso Ho caccato sbolla Ho caccato Aspetta lo prendo Vediamo se posso Sì posso prenderlo Metti su dentro l'altro Grazie Cariola Ehi Vabbè 15 minuti 15 minuti è una cifra Vuoi che lo faccio istantaneamente schiudere? Ma come vuoi? No non può Dai Devo riavviare il server Se no Ah no 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 Eh c'è la possibilità del glitch Dai Fate un altro incubatore Ma sprechiamo cazzi ragazzi Sprechiamo Oh ma qua c'è un forziere Questa casetta con la roba Per il cos'è sta cosa Quello lì è Titti Che cerca di fare le sue cose No non sono io Non sono io È la Matrix È la Matrix È la Matrix Eh io ho fatto solo il bambio Per le due sigelle Ma no l'avete fatta fuori dal confine Porco Dio Volevo fare le mura dopo Vabbè dopo fai Vado a farmi una cacca Ma se senti un po' questi nomi che ti dico Dimmi sborralo Però non per Ah oddio Mau Possiamo fare un altro Leva leva chi impaca Ne facciamo un'altra diffusione Leva chi impaca Tanto serve la torta Ah Ma com'è la pistola rampino Edo È utile Io non l'ho mai usata Io l'ho usata però ti ho detto No No Non merda Skip Quindi devo togliere chi impaca E mettere dentro Chi impaca me lo metto io dentro Perché ce l'ho io E E poi Ci servirebbero Le galline nell'allevamento Perché ci saranno le uova Però ogni volta devo andare a ucciderle in giro Che bello il campo qua di viole Au Vado a prendermi il Ah serve il gatto Aspetta Eh sì è il gattino Mau Quello della fusione Aspetta il fatto Oh poli Vediamo se ho un mare No Vi ascelo Grazie Brune La combini con l'aliante Va a velocità assurde Il rampino Eh beh sì Spari e poi plani E fai Eh ma il punto è che non puoi sparare Cioè devi stare molto vicino Ma giusto Alla terra No è due femmine Stupido Stupido Ti ha detto stupido Cazzo User joined your channel User joined your channel Beh amori Eh ciao Delu Ciao ragazzi Lei là Ciao Polica ragazzi Qualcuno c'ha Mau maschio Dovrei Aspetta che te lo trovo Dovrei Sì eccolo qua Fatto trovato Ma mica viene fuori So già cosa viene fuori Viene Mau crystal Fa schifo vecchio Come hai fatto a vederlo E come hai fatto Perché l'ho già catturato Lo trovi sull'isola Della 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 Bassa sinistra Le fusioni sono quelle Sono tutte crystal Cioè non tutte crystal Quelle di ghiaccio sono crystal Certo Le altre si chiamano Sì ma alpaca che cazzo è Che viene fuori Allora scusa Alpaca crystal Alpaca Sì Kingpaca crystal Kingpaca crystal Kingpaca crystal Sì sì Ah guarda là la mucca Non l'ho ancora trovata Grazie sapphire per i sette Grazie amore Ben tornato L'ho ancora trovata la mucca Sono 24 fusioni Quindi il totale Sono cento e tre Mi ho troppo stacco Ma perché mi shotta Tutti Muore Tale Mazzio Di me Eh Slot a sedici Il server Sì È potenzialmente estendibile Sì Teoricamente Perché Per evitare ad Atrix D&D Di fare un nuovo server Con power Perlomeno Almeno eravamo tutti insieme Sì è potenzialmente estendibile Sì Hai voglia di farlo? Non so però se ti dà Un periodo di down Non lo so se posso Secondo me Secondo me Secondo me Tipo stanotte Avviarlo stanotte Sicuramente ti richiede L'upgrade Riavvio Però si rischia di perdere tutto No 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 Quello no Trappeggiando Ah sì Ciao Darione Come stai? Bene bene Ti farma? Ok Grazie per i quattro Grazie amore Bentornato Darione qua tocca fare Già capito qua Eh ma bu Guarda che Appena attivano il pvp Qua tocca fare il server Di italiano Beh sarebbe figo Sarebbe Cazzo Il cazzo che venite nel mio Allora No va bene Facciamo un altro Lo facciamo ad evento A distruggermi tutto Quello che ho fatto In tutti questi giorni Mi ammazzo Ma no Mi pazzisco anch'io Se dovessi succedere No mi ammazzo Io non voglio Che diventi come rasta Col cazzo Hanno già detto Che metteranno il workshop Tipo rasta Si possono fare le mod Su sto gioco Metteranno sicuramente Qualche pallon A forma di cazzo Sì Pokémon a forma di cazzo È quello che sento Grazie amore Sì sì Particolare Questo pollo Con che ci riga Il liquido di palla Allora Dove sta Ah sempre denotter Ho trovato Lucario Dove Lucario 47 Anubi Anubis Anubis Oh parca Te l'hanno chiamato proprio Anubis Vabbè certo Come cazzo voi che lo chiami Non posso solo chiamarlo Lucario Poi ricorda C'è una cosa gigante Tra l'altro Boh vabbè Ma 47 ragazzi Sono al 26 Mi guarda Mi distrugge E' al 47 No ma è 47 Guarda l'endgame Credo sia l'ultimo Che livello è di difficoltà Al server Dico Ma è normale Ma è difficile Si ho sbagliato Vabbè E' difficile Meglio Puttana bastarda Godo Ed io ti ho messo Un altro po' di metallo Pochino però Te ne ho preso 500 Da quando sto farmando Lo sto massacrando E qui Portale alla C'è l'incubatrice Vicino ai letti Metti dentro E fa tutto lui Dopo 2-3 minuti Te lo vieni a prendere Lo prende qualcun altro E lo carica nel box Bomba bomba Ma sto facendo Il teaser Teasers? Ma c'è la pistola Eh si Però in combo con No no figlio di puttana Non starai a me Ah Bixi Il tizio gigante Se riesci prendilo Messi Vale un botto Al mercato nero A questo? Si quello con la gatling Si ma vecchio Non riesco a catturarle 5% Eh devi aver culo Oh Ma c'è un po' di proiettili Ti butto dentro No Bastardo No Ottenibile anche come fusione Anubis Ah Minchia Tramite? Ti dico io Che c'ho qua il pdf aperto Oggetto sconosciuto Li devi trovare Li devi scoprire Si Quando catturi i pal Ti chiede in automatico La Si si tu catturali tutti A parte che prendi infinite exp Catturali il più possibile Catturali tutti bro Eh beh Eh vabbè Si quello è Ho catturato L'hai preso Edu? Si padronanza della difesa Bracconiere distruttore Alli grazie per il prime Guarda tu dovrebbe dare Mille gettoni tipo Ah la madonna Beh l'ho visto la storia Nelle zaccone Mentre giocavi Quando stavano tutti a casa Sembra tutto male Ma quanta roba Ma Jack Jack ci si sta chiudendo Per lui 100% Si ma è da solo Poverino Perché non abbiamo ancora Fatto partire il server Infatti mi dispiace Preso Duck Toys Comunque dovessimo entrare Qui da voi Regà noi andiamo Dalla parte opposta Della mappa Così non ci caghiamo Il cazzo Si ma tanto facciamo Più Più villaggi Adesso Ma possibile che In questo cazzo Di deserto Non ci sia Ma quindi Lo spazio per i pal È solo quello Del box 1 Non è come Pokémon Che c'hai 10 box È solo quello Ma quindi Li devi uccidere Slash E fondere Aspetta Hai più pagine Però eh Hai più pagine Ah porca madonna Porca madonna Io pensavo Gli stavo buttando via Io No 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 Ma tu sei stupendo E che cazzo ne so Veramente Ma porco E che cazzo ne so Io vedevo QE Ho detto Boh sarà tipo l'ordine Invece Cambia pagina Vabbè Sette ragazzi Posso upgradare la base Finalmente Uuuuh E no Tocca a dormire E fallo Tocca a dormire Lampada da soffitto Sette per servizi Ah questo cazzo Si è adattato Al mio livello E che sta cucinando Qua Ma posso fare La fabbrica Per l'arco Moon L'arco ha solo frecce Del tipo Relativo Tipo arco infuocato Frecce infuocate Arco avvelenato Frecce avvelenate Ma scusatemi Ma non stanno Morendo di caldo Però Ho freddo Oh cazzo Il deserto Ma cosa cazzo è Questa vasca di merda Chi l'ha fatta Quel coglione di Titi 100% Mattia Come ti permetti Vuol dire che sei stato tu Questo me lo sta confermando Ti rendi conto No Non c'è più rispetto In questo villaggio Io propongo di gare Un sindacato Ma la balestra Fa tanto più danno Fammi provare balestra Dai Ma ti sta perdendo No facciamo il nostro Con 8 cimetti A fare la balestra Perché ha spinto Il falò ragazzi La fregna No non era il falò Era la mia torcia Per farti capire Come stavamo messi Comunque Per cortesia di dio 70% Titi dai piccola mano Qui a me Che facciamo piccola balestrina Dai piccola mano Di fianco Dai a tua destra C'è scritto Adesso ho capito La gag che puoi fare Ma No no Ah ok Eh volevo fare un attimo Eh già Chissà Guarda Adesso ci si vede Dici A destra A sinistra rispetto a te Ti sono al banco di lavoro Vabbè questa però È pesantissima Porta pazienza Eh no Perché Mille personaggi Il nome Ah Eh sicuramente Non mi vedevi Per quel motivo Sembra un po' Piccolo bag Dai Ah ecco perché sta aumentando Il tempo Ragazzi avete rotto Il falò Polly ma è un'immagine O è una cam Del gatto Quella che è in alta Sinistra È un Credo un'immagine Perché l'ho staccata Per poco fa Di solito è una cam Al momento è staccata Anche perché Il gatto è Ancima là Adesso Sono ideali Ok Quindi alla fine Tocca farsi la base Ognuno per i C E dopo si va al pvp E si decide Tutto Te l'hanno rubata Chi me l'ha rubata Non io Chi cazzo è stato È stato quel coglione Di Henry Dove è Henry Enrico di me Enrico ti giuro Che non ti Enrico Ti segnalo il server Non ha fusioni Occhio Henry Henry dammi la Non ha fusioni No si ottiene come fusione Mi hanno detto No 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 lo trovi lì Come boss e basta Enrico Vabbè sti cazzi Vabbè tanto resta una Tanto devo andare Ora che arrivi Devi essere endgame Titti dammi balestra Non ce l'ho io Non ce l'ho io Ti giuro Henry dammi balestra Non ce l'ho io C'ho la mia e basta Non ci sono tipo Le pergamene Che ti fanno fare il tp veloce No no Ragazzi ma state In quattro State facendo 600 Eh bro Dai mi ha rubato balestra Vi ho fottuto le frecce Coglioni Dai non c'ho I chiodi Dammi balestra Che non c'ho i chiodi Di merda Mi tocca andare a rubarli A Edo Poi Edo Sarà Te li facci i chiodi Eh rega Gli hp come li recupero Ah no però Con i lingotti di metallo Aspettando Devi solo stare fermo Fullati la La barra del cibo Aspetta Bro ma io c'ho 500 A forza di farlo La scherzo Vado un po' Cos'è questo La presa titti Mi hanno detto La presa titti Ah non è vero Basta guardare la mia stream Basta guardare la mia stream A me si vede che cosa faccio Chi cazzo ha la mia balestra Enrico Enrico Lui ti aspettava Tu stavi bloccato Nel campo Nel boccoso di lavoro Lui ti aspettava E poi a un certo punto Te l'ha rubata Non è vero Non è vero Non mi fido di te Eh vabbè Dammi una K47 Dai Titti Dammi una Dammi l'arma Non ce l'ho Non ce l'ho Dai Titti Non ce l'ho Sono obbligato ad andare a distruggere Tutto quello che c'è qui fuori Ti rendi conto Non ce l'ho Non ce l'ho Ho le mani legate Titti Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Ma mi ruba le cose Ma non ce l'ho io Che cazzo ha preso La mia fottuta balestra Enrico Dai Dio Dammi 5 chiodi Titti Per favore Vanno fatti quei lingotti Vanno fatti quei lingotti Oh mio Dio Non posso Perché quell'altro si incazza Traficante Livello 45 Vediamo un po' Cosa la frecce E sta morendo Enrico Godo Coglione Buttalo nel fuoco Uno di quei due bastardi Mi ha preso la balestra Uh Il feed run Guarda quell'arconfugato Che bello Ma non ci provo neanche a farla Perché mi fottereste pure questa Mi dicono per fare alubis Servono relaxaurus E broncerri Guarda che figlio di puttana Era Tullis quel coglione Da qua Vindi di contrabando Tullis del cazzo Era lui a fottermela la balestra Al coglione Vediamo quanto vale Maledetto 1860 soldi Delu c'è una cosa Allora ci sono i pokemon Grazie Nico per il plan Benvenuto I pokemon Fuzione Io lo vendo E sono quelli là Che stai guardando te E poi ci sono i pokemon Che puoi far accoppiare E far nascere dei pokemon Vabbè Regà domanda Domanda da un miliardo Edo c'è da fare qualcosa Quando si stacca O fa tutto da solo Visto che ci siete voi E allora ragazzi Io mi levo dai coglioni Buona domenica sera a tutti Sì me l'ha fottuta Tullis Ciao ragazzi Ciao Buona domenica Un piccolo Poli finale